forse ci siamo non so se ci sentite io sto alzando il volume ma non so perché comunque stavamo rispondendo stavamo rispondendo eravamo in chat ragazzi diteci se ci sentite se è tutto a posto Alex è meglio Sara e Fra che la tv sono pienamente d'accordo eccomi ciao ragazzi Marino Arzilli Antonino buonasera bella gente ragazzi fateci sapere se ci siete o meglio se ci siamo noi eccoci ragazzi si sente? il microfono mi dice che c'è quindi aspetta invece aspettiamo che sento il riverbero di qua si sente Laura Scarpeccio vedo il nome tuo ci conosciamo ciao Laura siamo centrali siamo all'interno di una stanza di un piccolo alberghetto vedete soffitto caratteristico di queste zone siamo di nuovo in altura perché eravamo scesi dai quasi 4000 metri poi stiamo risalendo perché ormai ci siamo abituati all'altura vogliamo stare in alto mettiamola così ragazzi vi salutiamo tutti siete state scrivendo a raffica per cui è un po' difficile Marco Selva dice belli siete allora Marco questa mattina ho sistemato la barba e Sara mi ha tagliato i capelli proprio per questa live cioè eravamo inguardati soprattutto io ero inguardati e Sara è sempre bellissima io non ho cambiato molto per cui insomma sono come prima tutta occhiali come dice Gabriele l'angolo della tecnologia dice come state allora l'angolo stiamo un po' stanchini non stiamo qua a lamentarci però siamo un po' stanchini perché quel tratto che avete visto abbiamo fatto questa live volutamente in quanto la scorsa live avevamo annunciato che avremmo fatto una strada complicata in pratica l'abbiamo fatta tutta l'avete vista perché l'ultimo pezzo che volevamo fare poi lo vedrete nel prossimo video che uscirà brevissimo la strada era praticamente serrata perché era chiusa la strada perché qua piove spesso e quando piove succedono casini e quindi non si poteva transitare abbiamo fatto l'unica strada percorribile e anche quella strada là la mattina quando ci siamo pronti per partire ci avevamo detto che era chiusa quindi eravamo rimasti bloccati a 3.800 metri perché in quel luogo ci sono solo tre strade e tutte erano chiuse sì il problema è un problema che da noi non sussiste o comunque sussiste solo in determinate zone dell'Italia magari un pochettino più un pochettino più difficili da raggiungere qui è un po' la regola loro sono abbastanza abituati a questo per cui non salutiamo un gruppo biker che ho visto sopra ci teniamo i gruppi biker anche quindi salutiamo il gruppo biker anche Lorenzo dice Sara incantevole Lorenzo anche io sono da mia parte non è che dobbiamo mettere tutto cioè per parco un dicio Nunzio Catano avete lavato la moto si chiede Nunzio Catano sì l'abbiamo lavata perché proprio dall'ultimo video che avete visto abbiamo fatto 150 chilometri siamo arrivati a come a Salta siamo un po' scollegati è la città più grande di questa zona e proprio là l'ho lavata ma ho fatto anche un tagliando l'ho dovuta un po' sistemare perché ne ha passate tantissime comunque abbiamo fatto quasi 10.000 chilometri quindi ho cambiato l'olio filtro dell'olio ho fatto un po' i lavoretti sulla moto ma è tornata come nuova veramente e anche nell'ultimo video vedrete tutto sì allora intanto rispondiamo a qualche domanda domanda tecnica allora come ti trovi con le TKC80 Daniele le TKC80 sono state tra virgolette la nostra salvezza perché l'idea quando siamo ritornati per questa seconda stagione era di percorrere determinate strade però già sapevamo con l'esperienza passata che sarebbe stato veramente complicato con le gomme che avevamo prima con le TKC70 ho visto i loro limiti su queste strade ovviamente perché ogni gomma è costruita per una tipologia di strade appunto da percorrere quando le abbiamo cambiate con le Adenau non sono rimasto soddisfatto di quelle gomme con le TKC80 all'anteriore ma anche questo binomio TKC70 Rox a posteriore io penso di aver trovato la quadra e non penso che le cambierò mai più soprattutto per qua per le strade che vogliamo affrontare ovviamente sull'asfalto non sono il massimo però se sapete benissimo che i luoghi più belli più assurdi più pazzeschi di questa natura li troviamo in posti complicati senza queste gomme sarebbe stato impossibile fare il percorso che abbiamo fatto ormai esperienza ce l'ho non vi sto dicendo una cavolata non è una sviolinata continental magari ci sono gomme simili che hanno caratteristiche simili sicuramente poi con queste gomme qua mi sono trovato è stato incredibile intanto saluto anche mia mamma che dice siete bellissimi è leggermente di parte Maria Rita Lattanzi ragazzi è la mamma di Sara e subito dopo Tiberio che dice ma vi divertite veramente qual è il senso di tutto ciò per noi il senso è enorme Tiberio ci dispiace che tu non lo veda pazienza siamo noi a farlo risposta tecnica Tiberio è seria e cristallina assolutamente vi divertite non è tutto divertimento assolutamente solo che se tu hai una curiosità che ti un po' ti riecheggia dentro perché ti piace conoscere nuove culture ti piace vedere posti assurdi e bene o male facendo questa vita trovi delle risposte poi che dietro a questa vita ci sono dei momenti veramente complicati come in questo momento non so come ci vedete ci siamo un po' sistemati ma siamo stanchi veramente perché l'ho detto tante volte mettere insieme questa vita in moto sono già due mesi e mezzo che siamo qua noi abbiamo solo la moto la nostra vita sulla moto e percorrere queste strade vivere questi paesini ovviamente con standard molto basici è complicato ed è dura e ti trovi quel giorno che ti svegli che sei stanco che dici magari che stiamo facendo è lecitissimo e pensi anche come potrebbe andare avanti questa vita però al tempo stesso magari poi esci incontri una persona vai a cena parli con qualcuno ci troviamo insieme tutto il giorno e questo è un po' il motivo per cui abbiamo fatto questa scelta sembra cioè ci sono pro e contro e comunque è complicato questa è la mia risposta il complicato della situazione noi vediamo un senso assolutamente qualche volta è più difficile riconoscerlo qualche volta è più difficile scavare nelle difficoltà e vederlo ma noi siamo partiti con un senso ci dispiace se tu non riesco a coglierlo Milena grazie grazie di cuore grazie veramente di cuore Eva la salutiamo non è stata una giornata facile lo so è una mia amica ti mando un bacio e poi parleremo con calma poi andiamo avanti se avete qualche curiosità ciao Alessandro intanto noi abbiamo fatto questa diretta un po' perché dai video ovviamente non condividiamo tutto al 100% altrimenti i video sarebbero lunghissimi però dietro a questi giorni ci sono stati momenti particolari che magari se qualcuno è curioso di capire un po' come si vive in altura i problemi che abbiamo avuto perché abbiamo avuto diversi problemi anche a livello proprio fisici magari scrivetelo qua nella chat che cerchiamo di risponderti sì e allora vedevo sopra perché ho visto che qualcuno è già partito con le cose la vostra curiosità è anche a livello tecnico qualcuno ci chiedeva il cavalletto come è andata a finire la frizione insomma ho visto non l'ho visto io questo Paolo dice un bel libro sui perri sarebbe infinito perché ci sono in ogni angolo io intanto leggo quello che mi capita e noi ci fissiamo abbastanza con i perri io non riesco a capire come fa Francia ad avere i capelli neri la barba bianca io non ci arrivo è la natura me lo chiedo anch'io purtroppo non saprei risponderti cioè i capelli sono brizzolati però vedi c'è una sorta di escalation da sopra al lato e poi diventa bianca alla fine sono inguardabile lo so però non posso far niente non so se devo tingerla ma va ma che tingiamo Sara non gli piace non lo tingerei mai iniziamola in questa maniera allora io vorrei un attimino soffermarmi sul fatto dell'attura perché noi ve l'abbiamo sottolineato più volte prima di andare in live Gabriele che ci ha detto ci ha confidato di essere abbastanza insomma esperto nell'altitudine per noi è stato veramente una lezione di vita perché siamo arrivati ai quasi 5.000 metri e il nostro malessere è stato continuo come diceva anche Gabriele è difficile dormire è difficile mangiare è difficile muoversi perché io ricordo in particolare una telefonata con mia mamma e lei mi chiedeva perché hai questo fiatone in realtà io parlavo normalmente e ogni tanto dovevo riprendere fiato anche qua siamo a 2005 e già a 2005 è un limite dove inizi a sentire il cambiamento però quello che a noi è rimasto siamo rimasti un po' spiacevolmente sorpresi il fatto qual è che siamo stati per 20 giorni dai 3.500 ai 5.000 allora se tu parti dal livello del mare arrivi a 4.000 hai dolore alla testa dolore allo stomaco dolore alla pancia che durano magari 24 ore non hai fame non hai voglia di mangiare però tutti dicono se tu magari ti fermi poi inizi a salire pian pianino ti acclini e questi dolori scompaiono è verissimo i dolori non ci sono più però quella sensazione di avere difficoltà a fare 10 metri di corsa parlare velocemente che ne so qualsiasi cosa che fai normalmente a livello del mare o magari a mille metri anche dopo 20 giorni il corpo non si abitua non è vero cioè la mancanza di ossigeno la senti sempre tanto che c'è sicuramente una componente soggettiva magari ogni fisico reagisce un po' a modo suo e Francesco lo vedevate particolarmente provato perché era quello che in moto si sforzava io ero ferma bella seduta senza grandi sforzi come avete visto e quindi anche nei video vedete proprio sentite proprio un cambiamento di voce di Francesco e questo ogni volta mi preoccupava perché nel prossimo video lo sentirete ancora di più perché quando siamo arrivati dove avete visto nell'ultimo video tra il freddo la notte e il giorno è caldo la mia stanchezza che ero arrivato al limite io ragazzi per 4-5 giorni la notte prendevo sempre brufen perché arrivavo stramente cotto che non so se vi capita quando siete tanto stanchi a volte si dorme peggio rispetto a quando siete stanchi a metà io arrivavo che non dormivo più prendevo brufen un po' per l'altura un po' anche per il dolore che avevo la testa e sono arrivato proprio distrutto a quel paesino che avete visto non a caso è stato il titolo di uno dei nostri video distrutto perché era la verità comunque quello che abbiamo visto che abbiamo capito quando siamo arrivati nel paese di Tolar Grande nel penultimo video siamo arrivati che era al calare del sole e alle prime persone che incontravamo dove abbiamo chiesto dove si trovava la nostra struttura struttura tra virgolette ovviamente era una caesina l'avete visto è una situazione un po' particolare tutti avevano una sorta di di pallina all'interno della bocca tanto che a Sara gli ho detto ma questi hanno tutti problemi identici no il problema è che noi eravamo abbastanza inesperti e la verità è questa cioè noi sappiamo però non l'abbiamo visto direttamente ora l'abbiamo vissuto e vi possiamo dire che anche le persone del posto che vivono a quelle altitudini vivono da sempre a quelle altitudini ovviamente fanno uso di sostanze costanti naturali costanti hanno le classiche foglie di coca se le mettono in bocca le lasciano in bocca come ruminanti vedete che tutti hanno una palla proprio all'interno della bocca poi i succhi i succhi della bocca i succhi acidi sciolgono queste foglie e all'interno praticamente c'è una sorta di chiamiamola tra virgolette droga perché da queste foglie ovviamente si estrae la classica foglie di coca vogliamo chiarire abbiamo un po' perso i messaggi adesso li recuperiamo vai avanti va bene in realtà parliamoci chiari non c'entra niente con la cocaina che conosciamo perché per fare un chicco di cocaina ci vuole una quantità una quantità di foglie infinita loro hanno pochissime foglie che mettono in bocca e le mescolano insieme al bicarbonato per cui si crea questa sostanza che dà energia è un energizzante e toglie un po' il senso anche della fame aiuta un po' il dolore della testa è un'obitudine che loro hanno costantemente e da queste parti queste foglie sono legali tanto che ragazzi diciamo una cosa acquistata proprio l'altro giorno questa confezione sono delle caramelle a base di foglie di coca e sono legali ovviamente la quantità capite io già l'ho provata già l'ho provata sono buone e onestamente non so se è un effetto placebo o se fanno qualcosina però è anche vero che ci hanno detto che non le possiamo portare fuori da questa chiamiamola provincia fuori dalla Bolivia perché queste non sono fatte in Bolivia fuori dal Peru perché non le possiamo portare a casa per farvi un esempio e non possiamo farci un business diciamolo in questa maniera allora noi sapevamo che fosse legale nelle province del nord ovest cioè quelle che abbiamo attraversato è chiaramente legale perché c'è un utilizzo insomma anche per la salute poi qualcuno del posto abbiamo stretto qualche amicizia qualcuno del posto ci ha detto in realtà vi capiterà di vedere qualche parlamentare che ha insomma che mastica foglie di coca e nessuno dice nulla è anche vero che l'Argentina è un paese abbastanza particolare nel senso che qualcosa è concesso qualcosa per qualcosa si chiude un occhio sono latini e noi ne sappiamo qualcosa grazie Alessandro per il supporto e per la birra voglio salutare ad Ele perché l'ho vista prima e c'è una domanda a cui mi faceva piacere rispondere cosa potete dire della gente sudamericana e cosa possiamo dire la gente sudamericana parliamo in maniera un po' più specifica per il momento degli argentini perché c'è molta differenza tra un paese e l'altro dire sudamericana è un po' generica lo facciamo anche noi sbagliamo perché ovviamente tra uno stato e un altro cambia tutto sì allora in realtà la gente argentina nelle zone soprattutto molto isolate quindi non parliamo delle grandi città che abbiamo attraversato poco anche per il pericolo che tendono sempre tutti quanti a insomma sottolinearci soprattutto per nel caso vengano attraversate in moto in realtà la gente sudamericana delle zone più isolate è molto più calma mettiamola così rispetto a come viviamo noi le nostre giornate come viviamo in Europa le nostre giornate questa calma si riversa anche nella una sorta di disponibilità maggiore nelle persone che si incontrano non c'è la rigidità che tante volte dimostriamo noi che siamo sempre di fretta e ci sentiamo sempre un po' attaccati un po' fregati dal prossimo quindi diciamo che adesso lascio la parola a Francesco c'è una una disponibilità in più a una vita più semplice senza per forza invidiare l'altra persona per quello che ha considerate che noi arriviamo con una moto che non si trova in queste zone che non è possibile reperire o comunque si può reperire ad un prezzo esagerato anche per noi europei ci riconoscono che siamo diversi però non c'è quel senso di rivalsa che tante volte abbiamo tra di noi comunque Tiberio stai tranquillo Sara non se l'hai presa no no non me la sono presa però il senso è il modo che magari no no ho risposto probabilmente un po' di getto assolutamente comunque per finire il discorso da parte mia come sono come la gente sudamericana cioè sudamericana soprattutto argentina perché abbiamo passato gran parte del tempo qua perché tante volte ci fate la domanda oppure magari qualcuno fa un commento un po' più tra virgolette duro sotto i post su facebook su instagram dicendo che noi arriviamo siamo viaggiatori siamo in vacanza e vivere in certi posti è veramente complicato e noi magari la facciamo vedere nei video come se le persone del luogo vivono bene cioè attenzione noi innanzitutto cerchiamo di portare un buon messaggio su youtube poi che il fatto che le persone vivano bene ovviamente loro hanno questo e come per tutte le cose ci sono dei pro e dei contro vivere nei paesini lo facciamo anche noi perché soprattutto stiamo vivendo all'interno dei paesini noi ci fermiamo diversi giorni quindi le strutture sono basiche il cibo è sempre quello praticamente la vita un po' che fanno loro ovviamente non è come la nostra perché noi facciamo un lavoro diverso lavoriamo online quindi non è che ci possiamo immergere al 100% nella vita delle persone del luogo però il discorso che voleva dirvi Sara forse era che quando tu vivi qua hai poco però sei abituato a quel poco quindi la diversità maggiore che noi riscontriamo è che quando noi in Italia abbiamo veramente di tutto perché più andiamo avanti con questa vita e più ci rendiamo conto che in Italia ragazzi abbiamo avuto una fortuna enorme a nascere in Italia però quella fortuna diventa un po' come tutto dovuto l'abbiamo detto tante volte abbiamo tanto ma le persone a volte tra di noi non siamo uniti solidali come lo sono qua non so se per me non fa parte del fatto di bandiera no non è un discorso culturale del capitalismo dove ci sono più soldi ovviamente l'uomo si trasforma in una determinata maniera ma non è che dove ci sono più soldi è tutto meglio o tutto peggio ci sono dei contro in ogni situazione sì nel senso che non è un discorso culturale non è che i sudamericani diversi culturalmente riescono ad accoglierci in maniera migliore no abbiamo visto che poi incontrando argentini che arrivano da cordova santa fe buenos aires si ripete quello che si ripete in italia perché chiaramente si alza l'asticella del benessere e si innescano dei meccanismi che conosciamo benissimo comunque paolo affonsini dice a franco ultimamente come assomiglia a paolo escobar tranne sul conto corrente però quello è un altro discorso a parte questo andiamo avanti allora salvatore dice ciao francesco salvatore da taranto sabato andiamo in germania in moto potete tranquillizzare mia moglie mirella sempre grandi salvatore mirella stai tranquillissima già da come ha scritto il commento tuo marito tuo compagno non so ha tua moglie quindi tuo marito è una persona super come definirla che si preoccupa per te anche per volerti tranquillizzare quindi vai tranquilla ma poi in germania stai passando quello che ho passato anch'io quello che hanno passato altre ragazze o signore come me in moto quindi stai tranquilla cerca di godere di quello che vedi perché è un'esperienza che abbiamo fatto in tante le paure ci sono però vengono superate dal gusto dell'esperienza che stai vivendo Demi dice comunque la Teneron secondo me la vedo più solida di un BMW GS spero che gli amavi regali una moto nuova alla fine del vostro viaggio grandi ragazzi allora Demi noi l'abbiamo tante volte speriamo che questo non lo consideriamo un viaggio speriamo che vada avanti ma non sappiamo fino a quando noi riusciremo però non lo consideriamo un viaggio perché appunto è la nostra vita è il nostro lavoro attuale è la nostra vita noi siamo la nostra famiglia è questa la vedi qua quindi abbiamo tutto ci siamo solo spostati da un luogo all'altro quello che dico sulla moto secondo me BMW GS te lo dico per primo è una grandissima moto non è solo moda però io se potessi scegliere io qua queste strade qua le farei con la Tenerona no con la BMW ma solo perché la BMW la vedo più performante la vedo sotto tanti punti di vista migliore della Tenerona la Tenerona la vedo più Caterpillar la vedo più solida e anche per certi dettagli come sono stati costruiti mi piace molto la meccanica faccio un piccolo esempio il cardano del GS ha una chiamiamola tecnologia una progettazione diversa rispetto a quello della Tenerona per certi aspetti come il comportamento stradale è migliore di quello della Tenerona però come solida la semplicità di quello della Tenerona ovviamente lo fa è un cardano secondo me più resistente ma ci sono tanti altri dettagli che secondo me sempre sul GS li vedo più delicati questi dettagli non perché non resista bisognerebbe testarla comunque però io avendole entrambe ovviamente una la conosco molto meglio dell'altra vedendo come sono state costruite anche il fatto delle teste che sporgono per come è fatto il motore io preferisco la Tenerona per questi viaggi qua poi per viaggi in Europa ti dico tranquillamente che per il 90% delle cose è superiore il GS rispetto alla Tenerona non è una pubblicità o un'altra per il fatto che Yamaha ci regali una moto qui è un discorso a parte noi facciamo noi gli diamo una visibilità altissima magari rispetto anche a diversi ambassador sì rispetto anche a diversi ambassador ma su questa cosa bisognerebbe avere delle conoscenze bisogna scendere per i compromessi e noi ci piace poco scendere a certi compromessi abbiamo fatto questa scelta per essere liberi se Yamaha ci vuole dare una moto l'importante è che ce la dà che ce la dia e che poi non ci chieda più però adesso per il momento scusa la saccenza però vogliamo essere più liberi possibile sotto questo punto di vista però ovviamente ci darebbe una mano enorme salutiamo Carol e Roberto da Bordeaux che ci dice ma questa meravigliosa coppia litiga a volte Francesco che si fa in questi casi Sara voglia di prendere un taxi allora Roberto e Carol litighiamo assolutamente adesso non esagerare però già da questa live capite il carattere com'è magari a me qualcuno mi vede un po' più duro a volte la riprendo a volte sembro non lo so ma io ragazzi è la cosa più importante scusa la parola cosa è la persona più importante della mia vita no ragazzi litighiamo è normale che litighiamo non abbiamo il modo aggressivo di litigare quello no ma dipende anche dalle giornate no però non ci appartiene proprio un po' in generale però si litighiamo e quando siamo nelle casine nel 90% 95% della nostra realtà qualche volta si cambia stanza per far tornare tutto nella normalità ma tante volte ci sono le stanze quindi beh sì dai il bagno c'è e il discorso è che è normale dai ma dopo considera che da due anni quasi a questa parte che stiamo 24 ore insieme perennemente ah beh adesso l'hai detto giusto qualche volta dici cioè sono un anno e mezzo che io sto con lei 24 ore su 24 facendo sembrare no è un modo di dire il maschile che finisce l'arte a ridere però i maschi mi cattiscono perché bene o male diciamo la verità l'uomo è più lineare la donna è un po' più altalenante beh io non tutte le donne magari va bene parlo di Sara comunque scusate ecco salutiamo botto sac grazie infinitamente sprint veloce grazie per il caffè assolutamente il caffè che arriva da Trentino dice poi allora ci siamo un po' persi ragazzi parliamo da qui potete vedere quanto ci prepariamo in realtà andiamo random ragazzi ho visto il video ad un certo punto la temperatura della moda è salita fino a 118 gradi avete mai avuto paura di dover abbandonare allora Cesare Cesare De Luca ha scritto allora il problema della tenerona è l'aspetto il radiatore l'impianto il raffreddamento è sottodimensionato i giapponesi sono delle sono delle persone molto meticolose molto precise ma questa volta hanno toppato hanno toppato perché sia per la posizione che per la dimensione l'impianto è sottodimensionato e ci è capitato altre volte ormai la conosco la moto però ho letto anche nel manuale che la moto potrebbe arrivare fino a 121 gradi perché fino a 117 gradi mi segna la temperatura poi da 117 in poi segna HI come se fosse una temperatura troppo alta e da lì c'è scritto che potrebbe arrivare fino a 121 dopo 121 si accende si accende la spia rossa del motore in quel caso spegnere assolutamente subito la moto mentre fino a quando la spia rossa del motore non è accesa bisogna lasciare la moto accesa di minima quindi non farla proprio muovere a mille giri pian pianino pian pianino qualsiasi sia la condizione ho visto la temperatura scendere però ci sono stati casi che ci siamo dovuti fermare proprio perché la temperatura sarebbe salita fino a tra virgolette far fondere il motore non si fonde però ovviamente si potrebbero fare dei danni importanti la guarnizione della testa troppa varia adesso per adesso la moto non ha avuto nessun tipo di problema solo una cosa lo vedrete nel prossimo video che già l'avevo vista l'anno scorso la moto sotto la coppa dell'olio ci sono due viti per togliere l'olio la casa Yamaha ti dice che tu puoi svitare solo la vite dietro quella verso la ruota posteriore per cambiare l'olio una volta sì una volta no mentre questo ogni 10.000 km mentre ogni 20.000 li devi svitare entrambi quindi togliere tutto l'olio e cambiare anche il filtro dell'olio nel mio caso io li svito sempre entrambi e cambio sempre il filtro dell'olio ogni 10.000 che è successo? sicuramente non tirando con la chiave dinamometrica anche dove portavo la moto cioè la moto ha fatto tanti cambi d'olio ha festeggiato 130.000 km ho visto e noi con lei? sicuramente anche con l'alta temperatura ho visto il filetto che si trova sulla coppa gli ultimi due filetti cedere questa volta insieme a meccanico l'ho portato meccanico qua a salta iniziamo a cedere anche il terzo il quarto filetto quindi abbiamo fatto un lavoro un po' del cavolo poi lo vedrete nel video ho mangiato tutta la filettatura ho messo un inserto una sorta di boccola in acciaio per appunto riportare il filetto nella stessa dimensione di quello originale questo sicuramente è un po' stato anche colpa dell'alta temperatura perché ovviamente la coppa dell'olio è in alluminio allora Marco Selva dice guardate che la peperina e la Sara in realtà non sono così peperina sono molto molto più istintiva di Francesco e l'avrete capito però non sono così peperina sono molto tranquilla forse mi piacerebbe essere un po' più peperina forse mi piacerebbe però sia sprint veloce che Francesco ti dice e falla parlare lasciala lavorare faccia parlare tranquilli no ragazzi però Ramses dice Francesco da Yamaha basterebbero tagliandi gratis a vita sì ovviamente aiuterebbe tantissimo ci aiuterete il problema è che anche per Yamaha trovare da queste parti ma anche forse quando inizieremo a salire verso la Bolivia il Perù il Brasile certe zone è difficile trovare anche un concessionario di Yamaha ufficiale quindi è difficile in giro per il mondo trovare l'officina ufficiale che ci faccia tagliare se ci dia un supporto economico è una difficoltà che noi in Europa non immaginiamo perché qualche volta ci viene detto ma insomma dove potete andare dove lo fate dove vi siete fermati per non so cambiare le gomme fare non ci sono possibilità non c'è la scelta noi siamo adesso in un paesino della provincia di Juhui San Salvador dall'ultimo video che avete visto siamo a circa 350 km quindi abbiamo fatto poca strada e forse l'ultimo video che vedrete già vi riporterà la nostra attualità però non è che noi ok ora siamo in un paesino e non c'è nulla però non è che noi possiamo scegliere a Juhui che è la capitale di provincia di fare manutenzione di cambiare le gomme non esiste ragazzi non esiste ed è difficile reperire materiale anche nella stessa Buenos Aires cioè la manutenzione il cambio gomme te lo devi programmare per tempo considerate vi dico in anticipo un'altra cosa che noi cambieremo le gomme magari fra un mese le cambieremo in Cile perché già abbiamo un appuntamento su un determinato paesone una città grande dove è facile dove è facile facile no comunque si può reperire gomme anche il fatto del lavaggio del tagliando la moto tutto il percorso che avete visto poi pensavamo di arrivare a Salta e da lì i chilometri a Grandinina erano intorno ai 10.000 e abbiamo fatto il tagliando quindi bisogna un po' programmarle queste tappe allora Giampiero Aldani ci fa un'osservazione giustissima salutate tutti ringraziamo innanzitutto Daniele Rossi grazie mille e abbiamo perso sì abbiamo perso qualcuno oggi siamo particolarmente in preparazione Francesco Bertuzzo grazie mille doppio caffè perché nell'altra live a fine febbraio avevo uscito il plafon della carta non importa non devi assolutamente giustificare aspetta comprate il tuo completo Rucca e non mi partiva la chiede allora Francesco però una cosa importante come ti sei trovato con il completo Rucca faccelo sapere è quello che ci interessa di più quello che conta è che ti sei trovato bene perlomeno io me lo auguro perché so della qualità che vi porto sul canale forse abbiamo perso qualche saluto dai nostri nipoti sarebbe imperdonabile quindi un grande abbraccio a Edo a Vale a Tommy e anche a qualcun altro che è in arrivo Alex dice la Sara è una finta tenerone non la fare arrabbiare altrimenti sono guai verissimo non sono molto tenerona in realtà chi mi conosce lo sa è una bestiolina no no neanche però insomma non sono così così morbida come qualche volta poi io non lo faccio credere però magari l'aspetto fa credere questo Alessandro Carpone dice carissimi dopo aver venduto la moto per potermi sposare sono tornato in sella dopo 17 anni grazie a mia moglie bravi vi ammiro complimenti Alessandro grandissimo complimenti e complimenti anche a tua moglie perché c'è sicuramente c'è affiatamento dietro per magari lei poi non salirà neanche però per farti star bene questo è Salvatore Sposito dice siete una coppia stupenda litigare fa parte della vita sono d'accordissimo sì è verissimo ma è normale ragazzi ciao ad entrambi per questo cambio di vita vi siete ispirati in qualche modo alla vita in viaggio della grandissima Nora di famosissima come i cibuzze no anche perché è totalmente diversa la sua vita rispetto alla nostra nel senso lei ovviamente viaggia sola viaggia da tantissimo tempo viaggia da tantissimo tempo però l'idea che avevo io di questo cambio di vita è appunto farlo insieme a Sara e proprio nel senso il cambio di vita è proprio cambiare dove dove stavamo dove abitavamo dove lavoravamo ma sempre in uno stesso gruppo cioè nel senso di Sara viaggiare ma in maniera in maniera lenta non il classico viaggio in moto perché ci piace visitare e conoscere la gente del posto quindi noi andiamo molto ma molto più lenti di cibuzze e vogliamo vedere un po' tutto siamo tornati in Argentina perché l'avete visto in questa seconda stagione perché abbiamo lasciato in dietro tante cose dove siamo passati vi posso garantire che non ci è passato quasi nessuno e sono tra i posti più belli e vi posso ancora garantire che abbiamo nonostante tutto tralasciato altri posti perché ovviamente non si può far tutto altrimenti si rifarebbero delle strade due volte ma abbiamo lasciato altri posti veramente sperduti oltre la strada che avete visto spettacolari forse magari torneremo però ho letto un messaggio prima l'idea adesso è di iniziare un po' a risalire esatto perché siamo proprio al compito Joker ci ha fatto la domanda ma andrete ancora al nord? assolutamente Joker perché la nostra idea attuale siamo al confine siamo al tropico del Capricorno al confine con la Bolivia e ora ci sposteremo in Cile sempre al nord del Cile poi entreremo in Bolivia e vorremmo andare vi anticipiamo espoleriamo una cosa ci vorremmo provare Sara l'ho convinta di andare a salare due giuni due giuni perché in Argentina è tutto ugiuni tutto visa però gli altri paesi no se si asciuga in questo momento il periodo delle piogge c'è ancora un filo d'acqua se si asciuga vorremmo provare a dormire in tenda là solo che la notte arriveremo a meno 10 meno 15 e quindi bisogna stringere un po' i denti magari dormiremo super vestiti con tutto quello che abbiamo vediamo allora intanto ringraziamo Luca Giancola faccio fatica con gli accenti soprattutto da quando siamo in Sud America Giancola Giancola Salud 978 grazie ragazzi grazie infinitamente rispondo un attimo a Valeriano Valieri che ci dice ciao Sudamericani che è il suo classico saluto e ci dice vi vedo in forma speriamo che anche tu sia in forma ma lo sappiamo Valeriano Valieri ragazzi l'avete visto su qualche video della scorsa stagione stava qua lui l'anno scorso con una Guzzi Stelvio una moto un cancello di moto lo dico una grandissima moto si insultano così classico scherzo tra musicisti una grandissima moto e lui un grandissimo perché perché è stato qua due mesi e vorrebbe tornare e tornerà tornerà sicuramente comunque vedo che Lucia mia sorella dice è una paladina della giustizia un po' e come dice Enrica Brambilla sotto le salta la vena diciamo che ogni tanto le salta la vena quando vedo qualcosa che è ingiusto che è ingiusto quando una persona o qualcuno non se lo merita allora in quel caso perdo un po' il senno vado distinto sbagliando ogni volta però io gli dico sempre le dico le dico sempre pensa un attimo prima di parlare perché sono una paladina della giustizia e della lingua italiana mamma mia ragazzi quanta pazienza perché tante volte se si pensa magari tre secondi prima di parlare io capisco che la situazione potrebbe essere complicata soprattutto quando sei stanco quando vai in moto tutto quello che volete però dico sempre l'esperienza non siamo più ragazzini bisogna in qualche maniera io non dico che non bisogna arrabbiarsi quando c'è bisogno bisogna arrabbiarsi però diamo il giusto tempo prima di arrabbiarsi però adesso ridimensioniamo non sono una che litiga per strada no ragazzi non sono così però è giusto che io dica i miei punti deboli che possano servire a qualcuno per dire anche lei si è autocriticata quindi devo migliorare anch'io Stefano dice grandi per colpa vostra abbiamo iniziato a viaggiare in moto a 58 anni ma hai fatto il giro della Spagna ma hai fatto il giro della Spagna ciao Stefano grandissimo Stefano ma hai fatto il giro della Spagna forse è una domanda noi siamo stati in Spagna diverse volte e tra tutte le nazioni d'Europa secondo me come viaggio tra virgolette vacanza in moto è tra i più belli rapporto qualità prezzo perché c'è di tutto da vedere l'unico problema è che è molto caldo se le ferie sono d'agosto da Madrid dal centro della Spagna scendere è tantissimo caldo è un po' un problema però il nord invece è piovoso quindi è quasi fresco la Spagna trovi tutto in Spagna però a noi piace tantissimo allora un saluto speciale anche a Marianna un bacio a Mariana e Giorgio però voglio anche dire a loro che probabilmente pensano a un viaggio in Spagna il viaggio in Spagna la discesa della Spagna è stata per noi anche un un esempio di quello che avremmo trovato in tanti posti qui in Argentina sapete benissimo che l'Argentina è stata colonizzata dagli spagnoli e questa colonizzazione si respira in ogni angolo nell'architettura che trovate ovunque quindi nel cibo non si sa mai magari farete questo viaggio questo giro della Spagna e poi penserete anche all'Argentina che merita ragazzi perché secondo noi una persona che è nata in Argentina secondo noi se si sporta in Spagna la vita la stravolge tra virgolette perché ovviamente la Spagna ha dei comfort molto più alti europei rispetto a quelli americani però ovviamente lo stile di vita si assomiglia si assomiglia e anche c'è anche un'altra cosa in realtà loro tendono a dire che la la maggiore immigrazione sia stata quella proveniente dall'Italia ci tengono particolarmente però è vero che lo stile di vita assomiglia molto più a quello spagnolo rispetto a quello italiano e chi spesso di loro ha un discendente spagnolo o un italiano fanno la cittadinanza di entrambi però tendono a trovarsi meglio in Spagna questo è un po' per descrivere anche il paese che stiamo vivendo quasi tutti gli argentini hanno la doppia cittadinanza perché se hanno un parente non ricordo fino a quale grado possono richiedere la doppia cittadinanza o spagnola o italiana sì e in questo caso sono cittadini europei una domanda intanto guardo in quei luoghi sperduti Nunzio bellissima domanda è meraviglia se avete sentito il senso di solitudine o paura fai tu vado io allora vado io velocemente poi spieghi bene allora per me il senso di solitudine e io l'ho detto più volte anche inquietudine l'ho avuto abbastanza forte l'anno scorso il primo anno che siamo piombati in questo paese perché siamo scesi in Patagonia e il vento e tutte le difficoltà che la regione porta con sé mi ha davvero dato la sensazione di essere persa nel pianeta Terra e quella solitudine non sono riuscita ogni volta a rielaborarla e a godere di tutte le bellezze che il panorama ci offrì però quelle di quest'anno erano più sperduti più isolati e di quest'anno molto più sperdute molto più difficili molto diverse a livello proprio territoriale rispetto a quello che siamo abituati a vedere mi hanno dato un'altra sensazione evidentemente mi sono anche un po' abituata come dicono loro costumbrata e in questo momento noi non siamo mai soli siamo in due e già questo per noi è una grande forza per lo meno secondo noi due no quest'anno no non c'è stato il senso di solitudine non c'è stato il senso di inquietudine sono riuscita io personalmente ad apprezzare appieno quello che abbiamo intorno e che è è stato abbastanza impattante invece da parte mia annunzio ti dico che o sono un po' folle non so a me questi porti piacciono tantissimo ho l'abitudine di pensare sempre che la moto non mi abbandoni mai non mi abbandoni mai perché sei un ottimista perché sono forse un ottimista forse un po' scemo non lo so e no e allora abbiamo in mente altri percorsi veramente complicati noi li faremo in questa stagione perché sapete benissimo che poi si torna in Italia per fare poi questo non lo anticipo ma poi ne riparleremo in un'altra live però abbiamo in mente altri percorsi veramente complicati perché come detto vogliamo vederlo tutto questo mondo soprattutto raggiungere posti sperduti ogni volta è un gradino in più e ci saranno dei percorsi veramente complicati come quello fatto più di quello non si può fare perché per noi è il limite per come andiamo carichi per essere il fatto in due con una moto pesante però ci sono tanti altri posti che vorremmo visitare senza pensare a questo senso di solitudine o paura perché noi stiamo bene anche se avessi il video con il cane noi saremmo stati altri due tre giorni su quella struttura veramente in sua compagnia basica non ci serviva nient'altro forse qualcosa da mangiare sì però c'era qualcosa sicuramente nella lunga distanza poi vuoi tornare a casa cioè vuoi tornare vuoi tornare ai tuoi standard vuoi tornare agli affetti poi no vuoi tornare anche a un cibo diverso perché là ragazzi non c'è veramente nulla la vita è veramente complicata però per quel poco tempo anche a starci di più anche una settimana noi stavamo bene considerate che Antofacia dove c'era se qualcuno di voi l'ha visto il cagnolino bianco e nero che noi abbiamo amato sin dal primo momento considerate che considerate che c'era un'unica dispensa ma non ci sono affettati loro fanno tutto in casa non c'è nulla di quello a cui siamo abituati non riesci a fare la spesa non c'è nulla loro sicuramente una volta a settimana qualcuno andrà su un paese che si trova a Antofagasta stava a 80 km tutto sterrato non c'è nulla dimmi in mezzo riporterà un po' faranno un po' le scorte per quello che lei si è offerta di cucinarci di farci una tortiglia perché tanto non avremmo trovato nulla da mangiare con pane non avremmo trovato nulla chiudo risposta annunzio avrà capito che l'ottimista tra noi due è lui e devo ammettere che questa energia fa molto bene anche a me ti senti più sicuro in questo secondo viaggio in Sud America perché e allora come in tutte le cose quando inizi un po' a conoscere i luoghi inizi a parlare con le persone inizi un po' ad imparare la lingua e te la senti un po' più casa cioè nel senso noi pensiamo che qua c'è tanta criminalità e magari in Italia no invece ragazzi la criminalità sta qua ma sta anche in Italia solo che in Italia la vivi in maniera diversa proprio perché ci sei nato e sai come poterti muovere quello che sta succedendo un po' a noi è che iniziamo un po' a capire come poterci muovere ovviamente ogni stato cambia ogni paesino o città grande cambia però stava facendo chiedi informazioni la lingua aiuta tanto poter conoscere la lingua in un luogo è fondamentale per apprendere tantissime cose allora voglio rispondere a Gabriele che dice vabbè tornare agli affetti e agli affettati anche Alessandro Graciale quando prevede di tornare in Italia Alessandro ciao Alessandro ti anticipiamo una cosa se tutto va bene noi abbiamo in mente questo dall'esperienza dell'anno scorso abbiamo visto che quando qua arriva l'inverno bisogna andare via perché già dove siamo qua a 2500 metri i posti più belli sono tutti in quota non ci si può andare la notte fa veramente freddissimo meno 20 quindi è impossibile vivere questi posti come ci piacerebbe viverli e nei luoghi un po' più sperduti quindi ci siamo detti questo la macchina non ce l'abbiamo più abbiamo preso la seconda moto proprio per questo motivo l'idea di tornare a giugno per poi ripartire subito e magari chiederemo a voi dove preferite che andremo perché sapere che condividiamo tutto magari per qualcuno potrebbe far comodo esatto se vi fa piacere poi ne riparleremo ne riparleremo abbiamo diverse idee magari quando la parte più calda giugno, luglio andare verso la Scozia o verso Caponord non sappiamo a prendere un po' di pioggia a prendere un po' di fresco come abbiamo già fatto però al tempo stesso sono luoghi molto cari questa vita che facciamo ci impatta molto a livello economico e poi magari che pensavamo a spostarci luoghi un po' più economici verso settembre ottobre che ne so in Turchia in Iran oppure andare in Algeria in Tunisia non sappiamo bisogna vedere anche i visti perché poi là bisogna richiedere il carnet per l'Iran il visto tutte cose un po' complicate vediamo ovviamente non ci vogliamo stancare tantissimo quando torniamo in Italia a un viaggio come questo perché poi l'idea è sempre dicembre, gennaio ritornare qua per pian pianino risalire perché prima ho visto Joker che ci ha chiesto ma risalirete la nostra idea è magari con qualche anno ma diversi anni ripeto fino a quando riusciremo non ci stancheremo se tutto va bene è di vederlo tutto in Sud America poi passare al Centro America poi passare al Nord America ma vederlo proprio tutto come questi posti come la Pona ragazzi gli argentini stessi non la conoscono e tanti viaggiatori che vanno molto più veloci ovviamente non possono andare dappertutto e noi vorremmo andare anche nei posti del Perù ad esempio vi faccio un esempio ci sarebbe a starci un anno in Perù per vedere tutti i luoghi spettacolari però la nostra soddisfazione per esempio più grande in questi giorni in questi mesi è stata che ci scrivono argentini e ci dicono grazie perché ci fate conoscere davvero il mio mi fate conoscere il mio paese che non conoscevo è una soddisfazione enorme è un onore enorme voglio salutare Joker che dice vabbè con gli affettati ci rifaremo da Bioco grande però c'erano domande importanti c'è Luigi è una parentesi corridoniana mancano tanto mancano tantissimo Francesco e Sara la verità è che questo genere di vita che state facendo vi disintossica dalle cose superflue e vi fa tornare ad apprezzare l'essenziale Luigi è una cosa verissima è una cosa fortissima soprattutto per me sembra una frase fatta però è verissimo perché ce lo stiamo lo stiamo vivendo vi dico guarda apro una parentesi che forse la sorella la sorella di Sara ci sta vedendo ha un matrimonio fra tre mesi e guardava si guardavano si scambiavano in chat va bene questo vestito qua io ragazzi è luce è normale si fa no ma no non è una critica è il modo di fare che abbiamo noi ragazzi che poi è sempre molto molto attenta a risparmiare ma non è una critica faccia luce io sono ero molto peggio lo sono ancora ma vabbè parliamo di te anche lei è uguale cioè questa voglia sempre di comprare mille cose con questa vita qua ti passa perché un po' apprezzi quello che è più la vita perché ne sei quasi costretto a farlo no perché a me non mi piace farlo cioè ragazzi mi vedete la moto che abbiamo gli accessori che abbiamo ci piace tantissimo cioè quello che abbiamo in Europa quello che ha creato il capitalismo è perché all'uomo piace punto e piace anche a me non è una critica che faccio verso l'Italia però facendo questa vita qua ti fa un po' ridimensionare perché ne sei quasi costretto il problema il problema è che però aspetta per finire il discorso poi ti lascio la parola di disintossica è verissimo però io voglio essere più onesto possibile però ragazzi è bello anche avere cose belle non voglio essere il classico che ne so salvatore della patria supereroe perché non lo siamo perché non siamo bravi a tal punto perché se siamo arrivati a vivere questa vita in Italia o in Europa è perché un po' l'uomo ovviamente qualcuno ti ci porta social l'uomo tende a migliorarsi ogni volta i social tutte le pubblicità ti ci porta però un po' ci piace anche cioè andare vestiti bene ci piace anche avere la macchina la bella casa è bello solo che tante volte quello che bisogna fare attenzione dove ci sto ragionando è una riflessione che facciamo tante volte tra di noi bisogna fare attenzione a non metterlo sempre al primo posto magari al secondo terzo posto perché la vita poi passa passa in fretta e ci perdiamo di altre cose un po' più futile il problema è che quando sei qua vedi tutto molto più chiaramente cioè dici vi faccio un esempio pratico ho una camicia in jeans mi ci vedrete nei prossimi video strappata si è strappata ragazzi lavandola si è strappata ho pensato il mio pensiero è stato non devo ricomprarla siamo in un paese in cui utilizzano quelle stoffe colorate che un po' colleghiamo anche al Perù peruviane in realtà siamo nel nord ovest argentino sono identiche e ho detto compro un pezzo di quella stoffa e la attacco sotto al buco così posso riutilizzarla non la butto perché in realtà non è da buttare in Italia non lo penserei e quando torno in Italia sono sicura che non riesco a fare questo ragionamento è anche vero perché qua tutte le persone che ti circondano fanno una vita diversa quindi tu ti senti più nella normalità ragazzi la verità è che siamo malati di occidente fino all'osso però capirlo già capirlo comprenderlo è un gran risultato Emiliano Gentiletti dice ciao un saluto da Curridogna salutiamo andiamo avanti perché stiamo perdendo ci perdiamo in chiacchiere scusate facciamo la diretta per chiacchierare vabbè però dopo noi andiamo un po' a ruota lì Gabriele Barbera Norvegia forse forse Gabriele poi Francesco dice Hola Sara y Frank los miramos siempre con mi mujer y mi hijo desde Milán è un grande onore che ne deduciamo che qualcuno di voi è argentino per parlare spagnolo oppure spagnolo e è un gran piacere da Milano Claudio dice all'inizio pensavo se lo fanno loro posso farlo anch'io adesso sono certo che quello che fate lo potete fare solo voi soprattutto può farlo solo no Claudio torniamo alla solita frase che dico sempre noi siamo delle persone normalissime quindi quello che facciamo noi lo potete fare anche voi quello che sicuramente ci aiuta è un po' la mia testataggine il mio ottimismo di provarci che fino adesso fino adesso è andata sempre bene speriamo che vada che continui questo percorso però fa parte un po' del mio essere di provarci nulla di più ma non servono caratteristiche particolari quello che sicuramente forse la cosa l'ingrediente più importante è trovare la persona con cui poter condividere questa esperienza forte perché stare insieme è anche quello che sopporta Sara cioè lo sforzo in mano lo faccio io però al tempo stesso tante donne non farebbero quello che fa Sara quindi qualcuno lo farebbe meglio ma senza dubbio senza dubbio però questo connubio come è stato scritto da qualcuno per adesso ci dà la forza di andare avanti quindi non è che quello che facciamo noi non lo potete fare lo potete fare tranquillamente no poi è una toppe via dice Joker è vero Igor sì è vero domani mi licenzo e parto vai Igor siamo con te ragazzi posso dirvi una cosa questa cosa l'ho vissuta in prima persona quando mi sono ritrovato a fare volontariato in zone di disarti naturali come volontariato rientro ricarico come volontario rientro ricaricato come dice Sara Luigi questo ti fa onore perché noi chiaramente non stiamo facendo volontariato e impari ad apprezzare quello che hai è senza dubbio verissimo quindi ti fa onore e insomma ti apprezziamo e ti facciamo tanti complimenti per quello che hai fatto che probabilmente fai sì torni anche quando siamo tornati a settembre no siamo tornati a agosto però fai fatica un attimino a riambientarti perché perché vedi tutto diverso rispetto a quello che hai vissuto qualche mese prima poi in realtà siamo figli dell'occidente torni ad essere quello che eri però io confido nel fatto che si possa migliorare anche non ci si accorge però si possa migliorare pochettino alla volta ogni volta senza che senza accorgersi più di tanto se si guarda con ottimismo non è poi così male ci sono delle cose che si possono migliorare assolutamente però non è un buon periodo bisogna guardarlo sempre con il bicchiere mezzo pieno questo bisogna ammetterlo però ci sono stati periodi uguali anche in passato riemergeremo franco costa dice il tenore di vita che hanno le persone in quei piccoli paesi praticamente quello che c'era alcuni anni fa nei piccoli borghi qui in italia quando c'era poco la gente era più semplice e genuina infatti franco non è qualche anno fa parliamo di minimo 40 50 anni fa in questi posti qua franco è verissimo per noi non è così sconosciuto quello che stanno vivendo hanno in realtà credo che qualche volta sia mancanza di cibo e questo per noi per la nostra generazione è qualcosa di molto lontano però nei racconti in quello che ci ha ronzato in testa e nelle orecchie sono classe 78 lei classe 81 sì però quello che ci ha ronzato nelle orecchie per tanto tempo con la generazione dei nostri nonni in realtà è quello che abbiamo noi davanti ai nostri occhi in questo momento per cui non è così impossibile così nuovo però è difficile comprendere quando lo si vive perché quando te lo raccontano una cosa quando lo vive è un altro però non è proprio uguale perché vi faccio una cosa prendi poi i soldi prendi i soldi là dentro faccio vedere una cosa che testimonia il fatto che non è proprio uguale anche a 40-50 anni fa perché quello che stanno vivendo loro quello che hanno vissuto i nostri genitori i nostri nonni ovviamente è simile ma non allo stesso livello guardate vi faccio vedere una cosa in diretta guardate questa mazzetta di soldi andata a ritirare l'altro giorno cioè uno dice questa è la banconota da 1000 peso attualmente da circa 2-3 mesi hanno messo in commercio la banconota da 2000 peso quindi fino a poco tempo fa c'era solo questa banconota qua questo è come se fossero le nostre 500 euro tutti questi soldi qua ragazzi tutti questi che vedete sono 4 massi da 100.000 quasi per tutti questi soldi qua sono 300 euro se pensate che tutti questi soldi qua se rifacciamo l'anno scorso erano circa un terzo quindi sono delle cose vivono delle realtà a livello proprio di di inflazione di situazioni molto più complicate rispetto a quello che era l'Italia negli anni 70 anni 80 mio padre me lo raccontava quando l'inflazione arrivava al 20% quando gli interessi erano del 20% che dopo 7 anni raddoppiavano i soldi in banca triplicavano quelle che volete qua ragazzi noi siamo arrivati dopo 12 mesi la benzina costa due volte e mezzo tanto nel senso che vi faccio un esempio se ora la benzina in Italia costa un euro 80 è come se fra un anno esatto la benzina costa 5 euro al litro e voi dite vabbè gli stipendi saranno cresciuti no parliamo quelli uguali gli stipendi non vanno dietro a questa inflazione quindi si ritrovano con pochissimo tempo a peggiorare il loro stile di vita il rapporto un potere di acquisto il denaro scende sempre tantissimo però magari il paragone era più riferito a generazioni si è acceso anche si ci vuole aiutare in diretta però qualche generazione dietro si parla ragazzi degli anni forse più paragonabili agli anni 30 20 30 40 forse però poi qualcosa invece è gli anni 2020 qualcosa torna tremendamente indietro è un paese particolare il Sud America è un continente particolare Gabriele Barbera dice mi piacete perché siete onesti sinceri senza essere brutali sempre molto umili grazie bellissimo complimenti Salvatore Sposito chiedeva sì ma dove si vive meglio dove si sta meglio è una domanda che ci facciamo tutti i giorni io sono sincero per me la vita no non ce la facciamo è migliore in Italia ogni volta cerchiamo di rielaborare perché no la vita è migliore in Italia è vero che è migliore in Europa e è inevitabile se non perdessimo proprio tutto quello che abbiamo guadagnato sarebbe ancora migliore però dal mio punto di vista si vive meglio in Italia se rallentiamo un po' che non dobbiamo per forza sempre correre sarebbe poco il massimo ti ripeto non è impossibile avere tutto il massimo però nel compromesso vivere nella lunga distanza cioè trasferirsi e vivere proprio qua io ragazzi ma anche Sara non lo faremo ci sono posti secondo me migliori per migliorare cioè in Italia secondo me stiamo a un livello alto per quanto ci sono tante cose da migliorare però vogliamo credere che l'Argentina sia impicchiata verso l'alto che abbia una ripresa saranno anni difficili quelli che hanno davanti lo diciamo sempre ce lo dicono sempre meglio però sono molto speranzosi e questa speranza che hanno è quella che noi anche in Europa non dovremmo mai perdere voglio avevo visto ah intanto voglio mandare un enorme bacio a Eronima chiaramente anche a Valentino anzi fino a ciao fino a quando provvedete di stare di rimanere in Sud America dopo tornerete in Italia noi l'abbiamo detto torniamo se tutto va bene il 3 4 giugno per poi ritornare a dicembre gennaio allora Faber Morse ti salutiamo non diciamo nulla Tiziano Spada ciao ragazzi siete fantastici c'è una domanda per Francesco nei filmati ti vedo sempre molto prudente hai mai preso molte per limiti di velocità allora Tiziano grazie a Dio no prudente ovviamente quando vado con la moto carica con Sara dietro vado tranquillo in questi posti qua è ancora di più perché le strade sono quelle che sono la guida dei locali non è proprio il massimo in certi contesti anche a livello proprio di segnali stradali è differente all'interno delle città tante volte non si capisce dov'è il senso unico se è il senso doppio senso non si capisce i semafori si trovano dopo l'incrocio come negli Stati Uniti quindi bisogna fare attenzione con la moto così pesante anche se hai buon riflesso ovviamente la moto ha uno spazio del resto più elevato faccia attenzione sì e le molte per adesso facciamo io ho dovuto discutere non le ho prese però quando si viaggiava in Italia con i miei amici si esagerava anche un po' è anche vero mi piace accelerare non sarei falso a dire contrarre Rosanna Maltagliati dice guardando alcuni video mi sono ritrovato con le lacrime agli occhi mi sono ritrovata ho ritrovato forse qualcuno che scrive col suo insomma questo per noi è un enorme piacere non perché tu sia con le lacrime agli occhi perché significa che abbiamo trasmesso qualcosa quello è perché sono bravo nel montaggio allora cerco di fare di enfatizzare il tutto Joker fa una domanda importante carta di credito non va sì carta di credito va loro hanno sia tarjetta di credito che tarjetta di debito però è un discorso molto ampio quello dei contanti dell'utilizzo dei contanti in Argentina perché in realtà c'è un discorso di più cambi del pesos per cui il cambio che riesce a ottenere avendo in mano il contante è molto più alto è più è più alto è migliore rispetto al fatto di pagare con una carta di credito questo significa che tutti i turisti che stanno viaggiando ora in Argentina sanno che è molto più vantaggioso per noi utilizzare contanti quello che loro chiamano effettivo questo vale solo per l'Argentina solo l'Argentina un'altra cosa interessante qua in Argentina con la carta di credito se vai al banco non ti danno i soldi quindi non è come tanti posti nel mondo che tu vai a prelevare i soldi non te li danno e da qui bisognerebbe farci un video pippone perché ragazzi è tanto complicato è un discorso molto molto difficile ormai l'abbiamo capito benissimo siamo diventati esperti da farci un video pippone dettagliato perché è molto interessante le cose è vero che le cose in Argentina stanno un po' cambiando il cambio della tarjetta di credito e il cambio del contante si stanno man mano quasi toccando riducendo cioè la differenza si sta riducendo però è ancora molto conveniente utilizzare il contante Sandro di Cristina dice mi avete portato in posti che non sapevo neanche che esistessero guarda Sandro neanche noi perché li stiamo studiando strada facendo e tuttora ti anticipo che abbiamo soldato due posti perché non li conoscevamo poi dopo che siamo passati ci hanno detto ma non siete andati là abbiamo visto le foto siamo rimasti a bocca aperta però ve li porteremo bisogna tornare appena potremo però finisci il messaggio perché c'è una parte importante il mio timore è che non esageriate perché adesso è un lavoro la prudenza la salute prima di tutto è verissimo però Sandro ascolta questo è fondamentale qualcuno magari potrebbe pensare che per fare più visualizzazioni per essere più seguiti noi esageriamo noi facciamo quello che ci piacerebbe fare poi ovviamente lo portiamo sul canale perché è il nostro lavoro assolutamente non pensate che quello che lo sforzo fatto per fare quella strada che avete visto non lo fai se non c'è la passione non lo fai per il lavoro ve lo dico ragazzi io sono arrivato distrutto in una maniera che che mi ha fatto un po' preoccupare una stanchezza del genere ragazzi mi sono ammalato quando siamo arrivati a San Antonio mi è venuta un po' di febbre ragazzi lo fai solo se hai la passione altrimenti non lo puoi fare quindi non ti preoccupare non esagereremo se magari per qualcuno esagereremo perché ci piace farlo tutto qua è anche vero che c'è una miriade di motivazioni che ti fermerebbero prima quindi gli stessi argentini del posto ti scoraggiano a farlo per cui se non sei ti devi piacere tanto se non sei disposto anche a dormire dove capita a fare ore e ore in moto perché devi andare molto lentamente non parti o comunque fai un tratto e torni indietro cioè io quando monto i video tante volte dico Sara ma abbiamo fatto questo cioè abbiamo fatto un giorno sette ore in prima cioè se tu lo racconti a qualcuno provate a guidare una moto di oltre 500 kg con Sara dietro in prima a venti all'ora che ogni tanto magari trovi un po' di sabbia trovi che devi stare sempre attento cioè dopo un po' hai il dolore ovunque più ti manca l'ossigeno che questo è un dettaglio che magari tanti che non hanno mai provato perché ovviamente in Italia non ci sono queste queste quote in Europa perché noi abbiamo le quote più alte cioè ragazzi viaggiare sempre costantemente sopra 3.500 4.000 cioè senti una difficoltà tripla perché l'ossigeno meno male quando ti sforzi il corpo ne ha bisogno e questa situazione è a pensare che ci siamo riusciti però siamo arrivati ripeto un po' al limite nonostante io poi diventi tutta occhiali come dice qualcuno come dice Gabriele però noi in questo giro avevamo anticipato se dovessimo vedere che la situazione diventa molto grave non ci facciamo problemi a tornare indietro per tutto il tragitto che abbiamo fatto l'avevamo messo in conto la difficoltà quella che vi diciamo spessissimo è che non si possono prendere altre strade c'è quella strada per cui nel momento in cui ti accorgi che non puoi andare avanti devi ripercorrerla a ritroso adesso vi raccontiamo una cosa quando stavamo a Stolar Grande che siamo arrivati sul penultimo video siamo arrivati di sera era buio quasi ci avevamo il giorno dopo per forza di cose o vai avanti o torni indietro e fai tutti i chilometri tutti i 500 chilometri fatti lì ti trovi imbrigliato stavamo non so se l'avete visto dove c'era il cane a dormire con altri due motociclisti che loro viaggiavano da soli scarichi e per loro era un'impresa fare quello che stavamo facendo noi per loro argentini motociclisti di vecchia data che da anni volevano fare questo percorso erano tra i pochi argentini che lo facevano loro stavano un po' avanti a noi ci siamo rivisti diverse volte ogni giorno facevamo la stessa tappa tanto che in un giorno loro l'hanno lasciato il caricatore e il cellulare nella nostra struttura dove stavamo insieme gliel'abbiamo portato la sera successiva comunque siamo arrivati stanchissimi loro ci hanno detto che avevano fatto 8 chilometri per andare a vedere un bacino d'acqua che non c'era nulla di che e ci hanno dato la notizia che ragazzi la mazzata finale ci hanno detto non si va avanti molto probabilmente dobbiamo aspettare i giorni dobbiamo fare 196 chilometri i primi 8 loro mi hanno detto guarda noi non sappiamo cosa succede dopo gli 8 chilometri magari la situazione è migliore io ragazzi sono andato a dormire ho preso un brufan come sempre era presto però è stata una serata però hai sempre l'ansia molto molto difficile perché fino a quando non lo superi quello starcolo non sai mai cosa succede perché se il solito discorso se vedi una moto più leggera scarico non te li fai questi problemi invece se ti trovi con una moto così pesante ti trovi tanta sabbia che proprio oggettivamente è impossibile là c'è solo una soluzione tornare indietro tornare indietro significa fare 500 chilometri della stessa strada di ripio che avevamo già fatto c'è solo quella non ce n'era un'altra per cui le difficoltà c'erano comunque andando avanti o tornando indietro tanto il mignotordi dice i marchigiani sono più bravi Valentino era il più bravo però Fabrizio Bolognani ma come ma come tempi per fare viaggio così o meglio aspettare la pensione visto che ci siamo quasi allora Fabrizio noi l'abbiamo detto tante volte per noi non è un viaggio la vita per fare un viaggio così non so quello che intendi perché per vedere il Sud America veramente cioè questo non è il classico ride in moto che vai con sei mesi dall'Alaska vai ad Ushuaia quello che facciamo noi è cercare di avere un po' tutto e di non di passare veloce e saltare ovviamente tante cose perché il tempo è quello che è ovviamente se ti piace veramente visitare un po' di tutto il tempo è fondamentale più ce n'hai e meglio è poi quindi la pensione è la cosa migliore quello che stiamo facendo noi è abbinare lavoro e tempo perché vivere in questa maniera forse siamo gli unici in Italia che lo fanno in moto la maggior parte lo fanno in camper perché ovviamente è tutto molto più facile però il motivo è che cerchiamo di portare avanti il lavoro e visitare un po' tutto per avere tempo e soldi che entrano perché ragazzi ci teniamo a ribadirlo la difficoltà del giro è stata evidente anche le preoccupazioni Francesco si è ammalato anche per il pensiero per se stesso ma sono certa a me sulla sua responsabilità però la vera difficoltà e noi ci teniamo a ribadirlo ogni volta se qualcuno volesse mai intraprendere la nostra strada la vera difficoltà è enorme è quella di sì viaggiare che è un piacere come ben sapete se avete questa passione è complicato anche quello però ma il discorso la difficoltà è lavorare mentre si fa è condividere creare contenuti stare sempre con la camera in mano montare video questa è la difficoltà scrivere libri Luigi sì che poi Alejandro ha risposto però Francesco posso chiederti una cosa ma sulle piste con Tolundule non tiene la velocità di planata allora Luisa ti rispondo subito la velocità di planata a volte significa andare 60 70 80 km orari io con la moto così pesante dall'esperienza che ho avuto non me lo posso permettere perché rischierei troppo rischierei troppo quindi devo rallentare perché bisogna guidarla una moto così pesante e poi un'altra cosa così pesante considera considera un dettaglio io viaggio fuori portata massima della Tenerona che è circa 480 kg io sto a 500 520 a pienissimo carico quindi cuscinetti sospensioni devono resistere a uno sforzo pazzesco e per noi la moto è fondamentale quindi rallento e tante volte subito l'ondolè vai anche a 15 all'ora 20 all'ora che penso sia meglio anche se le vibrazioni sono tantissime rispetto alla velocità di planata però è sicuramente più sicuro non riuscirei a viaggiare a quella velocità prima lo facevo adesso non me la sento più di fatto gas gas dice se fosse solo lavoro non fareste determinate cose ci sono lavori meno faticosi le sfide come le vostre si affrontano solo se c'è passione e voglia di scoprire i propri limiti secondo me dai è un po' chi l'ha provato si rende conto nel senso che non riesci a tenerlo più di tanto se pensi solo a a produrre cioè se deve essere finalizzato solo a un aspetto lavorativo ti deve muovere qualcos'altro perché se no qualcosa abbandoni per me è veramente complicato tanti ci provano è giusto provarci perché provarci non costa nulla però vi dico ragazzi che è veramente complicato perché fare un video che sia di intrattenimento significa non solo un montaggio importante ma significa anche mentre stai in giro riprenderti nel momento giusto aver voglia di parlare quando tante volte non ce l'hai cercare di farlo con il sorriso ragazzi purtroppo c'è il modo di pensare che oggi con un telefonino prendi faccio il video registro è tutto semplice per me ragazzi è uno dei lavori più complicati io faccio un lavoro complicato prima se lo devo teletrasportare a quello che facciamo ora secondo me nel complesso forse è più complicato questo ovviamente farlo in maniera seria poi se io devo fare un video che ragazzi prendo la camera registro all'infinito è semplicissimo però farlo in maniera seria creando qualcosa di piacevole da vedere perlomeno noi ce la mettiamo tutta si potrebbe fare tutto molto meglio però poi si rallenterebbe i video ne faremo veramente pochissimi io vi dico che secondo me è complicato farlo è un lavoro complicato Giorgio Fioretti ci dice come fate a trovare alloggi in posti così sperduti ciao dalle marche sappiamo che è un marchigiano come noi come facciamo allora abbiamo diversi metodi forse può essere d'aiuto per qualcuno anche qua video pippone è interessantissimo però molto spesso noi ci rifacciamo a google cerchiamo la località su google e insomma allargando la località su google map la classica app per la navigazione se tu allarghi trovi le strutture esatto questa è una parte una parte perché non tutte le strutture sono contrassegnate però c'è da dire che a quel punto quando troviamo la località molto spesso cerchiamo di cercare insomma i contatti scriviamo in chat in spagnolo e quindi si è creato un giusto o telefoniamo torniamo al discorso che conoscere la lingua per abbattere i costi trovare le strutture migliori è fondamentale perché bene o male poter chiamare significa superare tutti i classici sistemi di prenotazione che trovate online parlare direttamente con la struttura senza nascondere nulla pagare cash contanti con l'effettivo e si risparmia ragazzi si risparmia poi ovviamente ovviamente su google non tutto c'è quando troviamo nei posti più sperduti c'è anche la vecchia maniera magari se trovi un bar del luogo chiedi chiedi al bar se c'è qualcuno che affitta una stanza la Bavaria oppure ci sono proprio dei siti specifici per determinate zone perlomeno le troviamo anche nei classici info turistici guardiamo anche là perché tante volte su google non ci sono contrassegnate le strutture però è anche vero che noi preferiamo parlare con la struttura perché per noi è fondamentale la wifi per cui ogni volta chiediamo in che stato è la wifi la velocità per farci un'idea se riusciremmo o meno a caricare un video qualche volta non vi nascondiamo che abbiamo cancellato proprio perché la wifi non andava e come facevamo con voi tante volte spendiamo un po' di più per avere la wifi migliore quindi la wifi e il parcheggio per la moto sono i due filtri fondamentali per la nostra struttura proprio per trovare le strutture la maniera più economica ripeto è guardarle su google oppure su qualche sito e chiamarle e contattarla è la cosa migliore Nunzio ti salutiamo buonanotte buonanotte a te e alla prossima speriamo presto allora Davide le stabilità dei paesi che visitate li rendono poco sicuri voi avvertite questa situazione Davide questa è una cosa che spesso viene detta tipo ti trovi in Argentina vai in Bolivia vai in Brasile sembra tutto che sia veramente complicato è tutto veramente pericoloso e torniamo a dire che quello che stiamo vivendo noi fuori dalle grandi città non è così pericoloso come ci viene detto ovviamente rispettiamo i canoni cioè la notte non si viaggia però dove siamo ora qua è che è un paese di 1500 persone cioè ragazzi qui puoi fare qualsiasi cosa e lasciare la porta aperta quindi tutto dipende dalla dimensione e dal dal lugar dal quartiere mettiamolo in questa maniera ma non pensate quando si fa non bisogna generalizzare il Brasile è pericoloso il Brasile è pericoloso nelle grandi città poi ci sono zone che è enorme il Brasile zone fuori dalle grandi città che è un po' come vivere in Italia nei paesi nei piccoli volti nei paesi perché anche in Italia noi siamo abituati a sentire a comportarci in determinate maniere perché ci siamo nati ma l'Italia non è così sicurissima come si pensa in determinate zone quindi finora qua noi ora torneremo in Cile e poi entreremo in Bolivia che è un paese che non conosciamo ci sono dei limiti che già ci stiamo informando tipo in Bolivia attualmente la benzina ai turisti non viene data cioè viene data solo in determinati distributori e hanno un prezzo che è il triplo della benzina per i locali quindi questa è una caratteristica della Bolivia ovviamente in determinati quartieri bisogna fare attenzione però ragazzi non cerchiamo di cioè non pensiamo che è tutto così veramente pericolosissimo fuori dall'Italia poi questo non preclude il fatto che in realtà nelle grandi città può essere davvero molto molto pericoloso questa è la verità l'instabilità la notiamo anche nella vita di tutti i giorni noi abbiamo chiesto per faccio un esempio abbiamo cercato di informarci per poter lasciare la moto in Argentina anziché rifare la strada di tutta la pampa per poi tornare in Uruguay quello che ci è stato detto è stato spesso se dovete farlo se dovete fatelo ora perché fra un mese due mesi la situazione può cambiare è una sensazione che fortunatamente in Italia viviamo solo in parte però loro hanno questa instabilità che toccano con mano cioè può cambiare tutto da un momento all'altro c'è una persona a cui ti rivolgi che è il capo di qualcosa un mese dopo non c'è più nessuno è tutto cambiato questo sì questo loro lo vivono le notizie di 3-4 anni fa sono obsolete bisogna prendere sempre notizie fresche tornando al discorso della sicurezza nelle grandi città sì in certi quartieri assolutamente molta attenzione perché anche Michele un'altra coppia che stavano qua con gli Defender l'altro giorno ci abbiamo parlato sono stati a Buenos Aires che è una grandissima città e hanno fatto un veicolo magari già una zona un po' fuori non più turistica fuori la bocca forse circondato da un gruppo di ragazzini e lui non aveva nulla perché qua la regola fondamentale è non uscire con l'orologio non uscire con il telefono in mano perché nelle grandi città te lo sfilano dalle mani però questo può capitare anche nelle nostre grandi città non lo so noi non viviamo nelle grandi città magari fatecelo sapere però qua forse un po' peggio perché c'è un po' più povertà quando c'è la povertà qualche volta sono armati ecco questo è un altro dettaglio che purtroppo però anche qua ripeto la dimensione enorme riguarda solo determinate zone allora alleggeriamo un po' il discorso Antonino Glorioso ci dice la tavola tutta da sparecchiare e io che vi guardo e ammiro non apprezzo grazie un'immagine bellissima un'immagine familiare che io ho vissuto moltissime volte mi emoziona e grazie ad avercelo scritto grazie bellissimo Milena dice in Bolivia c'è il Salaro Iuni che è uno spettacolo Milena la nostra destinazione fra un mese dovremmo essere là l'idea è quella di dormirci anche in tenda nonostante la notte farà meno 15 e quindi abbiamo risposto anche a Longo Francesco dice però un po' di tenda che fa più avventura faremo anche quella però la faremo quando la facciamo la facciamo in maniera tosta perché ripeto la nostra attrezzatura non è potremmo dormire fino a 0 meno 5 però arrivando a maggio in Bolivia 3.000 perché lì se ti trovi a 3.000 a 3.000 a 3.000 a 3.700 la notte arriva a meno 15 lo vorremmo fare ci vorremmo provare dormire in mezzo a salare da soli e vediamo se ci riusciremo Salvatore Esposito dice complicato o no a noi arriva il meglio quindi non preoccuparti Francesco stai facendo un lavoro in mano e fatto bene bravissimo grazie per il supporto psicologico Tommaso Castelli dice ormai siete come la panda se non ci fosse bisognerebbe inventarvi allora io Tommaso ti confesso che per me la panda è l'auto migliore che hanno prodotto proprio nel mondo la vecchia soprattutto e quindi questo paragone con lo spot di tanti anni fa non ha prezzo come diceva prima Antonino magari un giorno vi incrociate con i ragazzi di Steps Over e puntata Netflix noi siamo la parte povera rispetto a Steps Over però sono bravissimi loro hanno un mezzo spettacolare che tante volte me lo sogno però noi abbiamo la tenerona e questo è quello che possiamo avere ora va benissimo così però ripeto loro sono bravissimi ci farebbe piacere anche a noi incrociarli no però ci fa piacere in generale incontrare viaggiatori di qualsiasi parte Claudio bella domanda ma cosa ci dite del silenzio di quei posti Claudio il silenzio è disarmante perché senti solo il vento il vento ti accompagna un po' sempre però tu ti fermi e abbiamo fatto dei posti dove stai fermo un'ora e non cioè ma due ore non passa neanche un animale nulla il nulla il nulla più assoluto quando intorno hai delle montagne una maestosità infinita che non sei abituato a vedere è quasi commovente se ti piacciono questi posti noi forse ci manca una cosa tante volte quando ci fermiamo in moto per non rendere il video troppo magari monotono cerco di montarlo abbastanza veloce forse mettere dei pezzi magari anche più lenti che stiamo seduti di fianco alla moto che parliamo tra di noi anche in silenzio fateci sapere se vi può piacere cambierebbero chiaramente cambierebbero i ritmi dei video però forse è una parte che manca perché siamo sempre indecisi al fatto di girarlo o meno fatecelo sapere neanche sappiamo quando è il momento migliore di prendere la camera magari la prendi per parlare poi invece sarebbe bello anche posizionarla due minuti per chiedere quello che facciamo però guarda hai fatto una domanda ottima perché quel silenzio lì è un silenzio che è mancato alle nostre generazioni ed è un silenzio che manca anche alle generazioni attuali che hanno un silenzio diverso hanno un silenzio che è fatto insomma degli occhi puntati su un telefonino e magari di poche chiacchiere questo viaggio è formativo anche sotto quel punto di vista tante volte penso che anche i miei nipoti i nostri nipoti dovrebbero farlo Edeuardo sta crescendo e qualche volta ci ha lanciato l'idea sì io quando andrete in Siberia verrò anch'io perché si sta incuriosendo molto sta provando a fare i suoi montaggi e è formativo perché quando la natura quando sei tu di fronte alla natura che ti parla però c'è solo lei che comanda ti rendi conto di tante realtà della vita che a quell'età soprattutto quando sei molto giovane sono molto forti e quindi sarebbe formativo un po' per tutti la credo perché sennò sono Andrea Peirano dice non avete programmato un incontro con il grande Davide Biga ci siamo incontrati l'anno scorso però lui ovviamente fa come lavoro porta in giro gente qua in Patagonia e certe zone non le non le non le visita non porta non porta diciamo i componenti del gruppo su determinate zone perché lui fa soprattutto la Patagonia e l'abbiamo conosciuto è veramente una persona squisita ci ha anche aiutato un paio di volte soprattutto per avere informazioni su dei cambi della moto sulle gomme quindi da parte nostra se dovete fare un viaggio in Sud America in Sud America nella Patagonia Argentina e Cilena non esitate a contattarlo perché penso che sia il migliore tour leader che potete trovare in zona è una violinata che faccio a Davide ma meritata Mai Saulio 1438 di Lorenzo grazie intanto grazie Lorenzo sempre sempre gentilissimo infinitamente e dice diceva ma non vi è arrivato forse il mio saluto da macerata la connessione sembra poco stabile ah ci dispiace ditecelo se c'è qualche problema ci sono arrivati adesso e ci fanno enormemente piacere ci fa un attimo tornare a casa Itaman dice ma un piatto di lasagne non vi manca scherzo siete grandissimi guarda Itaman domenica proprio nel giorno di Pasqua abbiamo avuto un cedimento un cedimento gastronomico soprattutto qualcuno io ce la metto tutta ragazzi però gli ingredienti che troviamo sono quelli tante volte diciamo la verità noi non ci forniamo non ci forniamo di grandissime cose perché spesso nelle case ci siamo qualche giorno dobbiamo fare attenzione a finire tutto perché poi se no dovremmo buttarlo quindi qualche volta ricicliamo quello che abbiamo comprato che ci ha avanzato anche questo aspetto è complicato ecco per non buttare per non sprecare perché lo facciamo per quello e quindi qualche volta mangiamo di nuovo quello il giorno di Pasqua abbiamo mangiato un ragù con riso con ragù giusto? sì però abbiamo tutti i parenti con videochiamate agnello di qua agnello di là eh ragazzi è stata durissima e c'è stato un cedimento fortissimo qualcuno avrà visto qualche storia Instagram io l'ho colto in un momento in cui era veramente cambiamo discorso e il mio tour di buonanotte ragazzi tra poco chiudiamo perché veramente è un'ora e 25 parliamo come sempre Gabriele The Sound of Silence bellissima canzone Enrica ciao un bacione buonanotte a tutti ti capisco Francesco il silenzio l'ho provato il deserto è magnifico se non provi sarà il deserto Milena l'hai provato meglio di noi Pavlito ci dice certamente l'assenza di inquinamento acustico e luminoso deve rendere questi posti meravigliosi sì Paolo più che altro sei un po' tu che fai i conti con tutto tutto il tuo bagaglio no? è un silenzio stato sferico ti senti anche il nulla ti senti c'è qualche animale che non hai mai visto prima che si che vedi in lontananza che ti fissa perché tu hai invaso il suo spazio è anche molto emozionante Enrico Rambilla buonanotte grazie come sempre del supporto sempre gentilissima Maria Franca dice Sara mi colpisce la precisione la scioltezza con cui descrivi sempre con competenza le zone attraversate la storia dei luoghi ma ti studi tutto prima sei preparatissima Maria Franca ci provo non sempre sono così esaustiva mi auguro di migliorare però sì studio prima studia molto grazie è una parte del suo lavoro quando magari rimonto video lei ragazzi studia magari l'età quello che dobbiamo fare che c'è da visitare studia la storia studia tutto quanto per poi appunto poter arricchire il video e Ciampoli Gaspare spero di averlo pronunciato bene ho come la sensazione che Sara stia facendo qualcosa di più grande di lei per amore leggo nelle sue espressioni facciali tanta nostalgia chiedo scusa per questo messaggio assolutamente no ma è solo una sensazione allora Gaspare io sono l'ho detto prima sono molto istintiva sono una persona purtroppo abbastanza nostalgica no la scelta è stata di entrambe però chiaramente ho seguito una passione che non era mia quella della moto avevamo in comune la passione del viaggio questo sì però mi emoziono molto spesso mi emoziono se sento i nostri nipoti mi emoziono immaginando una situazione di casa ma non perché qui io non senta casa però come dire quando sei lontano e qualcuno ti descrive una sensazione che tu vivi normalmente la tavola apparecchiata che noi purtroppo non viviamo più qui perché prima cosa le tavole non si apparecchiano per fare un esempio stupido folle insulso però è così le case che tocchiamo non sono case nostre c'è sempre lo zampino di qualcun altro questa quando io sento qualcuno che mi descrive la sua normalità per me è emozionante come sono emozionanti i film di non so di tornatore cioè quando c'è proprio la vita viscerale la vita proprio vera senza senza fronzoli a me emoziona quel messaggio per esempio della tavola ancora apparecchiata e si va a zonzo perché non c'è la voglia di sparecchiare io sono un po' così sono una che vive la notte è complicata questa vita perché se avessimo avuto già un camper hai il tuo letto il tuo matrasso il tuo lenzuola le tue cose questa vita che facciamo noi è complicata perché tante volte ti metti di fronte a delle difficoltà che quando sei stanco inizi a dire porca miseria io avevo quelle abitudini quelle cose a casa e senti proprio la differenza per questo quello che facciamo noi in moto non lo fa nessuno forse proprio perché è tanto complicato nella lunga distanza avere un mezzo tuo come appunto hanno parlato gli steps over che hanno un mezzo che è tecnologico hanno una dimensione un posto dove lavorare hanno tutti i comfort e sono i loro e sono i loro che tu non devi ogni volta cambiare è più confortante noi ragazzi perdiamo tanto tempo tra virgolette a trovare la struttura per capire se va bene per la moto quando arriviamo magari trovi quella cosa che non ti piace e tu dici io devo vivere qua in queste condizioni arriviamo laviamo tutto quando andiamo via raccogliamo tutto è duro ragazzi perdiamo tanto tempo attenzione perdiamo tanto tempo però questo che io ho spiegato non deve essere tradotto in tristezza la nostalgia per chi è nostalgico di natura non è tristezza è un modo di trascinare un po' la vita che ha le sue bellezze però al tempo stesso io guardo sempre il lato positivo questa vita ti porta dentro le case delle persone parliamo con i proprietari vivi più il ruolo incrociamo un po' le loro abitudini secondo me capisci più come si vive qua se ti piacerebbe vivere qua quindi ti immergi un po' di più e poi soprattutto vivi anche un po' più la città se avessimo un mezzo a quattro ruote tante volte penso che dentro le grandi città non ci vai ma soprattutto dove siamo andati noi un mezzo grande come quello di Steps Over è impossibile andarci magari un Defender un mezzo più semplice più compatto ti porterebbe ovunque un mezzo grande ha tantissimi limiti sotto il punto di vista del viaggio intanto mia sorella che ha mandato dei cuori Francesco Saia grazie mille grazie infinitamente può già ammassare la cubista no però volevo leggere anche il messaggio ottimo titolo per il prossimo la tavola che non apparecchio più verissimo Giuseppe Iurlaro credo parlava un po' di suo figlio forse che mangiavano forse era lui mi sono un po' persa scusate insomma parlavano insomma che con mio figlio ormai si è diventato in una compagnia costante tutte le sere grazie grazie infinitamente buonanotte Elia ciao ragazzi siete super grazie a tu Francesco ho comprato la mia tenerona una moto incredibile Elia sono contento che sei rapporto qualità prezzo Elia la migliore moto che c'è non è un GS un GS è superiore io lo ammetto ve lo dico per primo però secondo me rapporto qualità prezzo affidabilità come moto da viaggio con il Cardano per viaggiare in due stracarichi secondo me è un'ottima è veramente un'ottima moto che costa il giusto anche se adesso costa molto di più rispetto a quello che l'ho pagata io forse è colpa nostra Fabio Boccato dice ciao Francesco come siete riusciti a cambiare vita a togliere le radici superare questo scoglio penso sia la cosa più difficile vedervi insieme non arriva la solitudine che c'è in quei luoghi allora vai tu allora Fabio è un percorso che io personalmente ho già messo una decina d'anni è nato quando siamo andati il penultimo viaggio già ci pensavo l'ultimo viaggio in Marocco siamo tornati a viaggio mercoledì martedì mercoledì sono andato al lavoro e mercoledì mattina ho parlato subito con il socio dove lavoravo io ho detto guarda io devo fare questa cosa non so per quanto tempo però sulla vita ci dovevo provare ho 44 anni avevo in quel caso oggi quasi 46 e ci dovevo provare però ho detto ho detto questo in termini pratici che è iniziato molto prima non ci si abitua a tagliare a togliere radici cioè tu lo puoi immaginare immagini un po' tutto tutto il percorso lo sogni per anni però poi quando lo vivi come sempre è un'altra cosa non è non è semplice Francesco ha un carattere diverso dal mio però è un lavoro costante che facciamo tutti i giorni per noi è diventato anche un lavoro quindi c'è una parte seria e molto insomma a cui non non possiamo rinunciare come chiunque abbia un lavoro per cui per noi è diventato un lavoro si fa con la massima serietà e quindi si mettono da parte tante tanti fronzoli che magari facendo un viaggio dicono però non mi piace lascio mollo torno no per noi è un lavoro si va avanti con molta con molta tenacia però secondo me l'ingrediente per provarci è essere in noi nel senso che ieri abbiamo fatto cena con un'altra persona che ha lasciato il lavoro dieci anni fa è venuto qua ci ha raccontato un po' la sua storia siamo stati a cena insieme e sta sempre in moto però quello che abbiamo notato parlando anche con lui che e l'abbiamo visto anche in questa esperienza tutte le persone che viaggiano in moto soprattutto viaggiano da soli e fanno viaggi da due mesi tre mesi difficilmente condividono o se condividono in maniera semplice ma non fanno video perché è un impegno enorme perché c'è bisogno di portare l'attrezzatura c'è bisogno di competenza c'è bisogno di passione e tantissimo farlo per tanto tempo per anni Graziano Graziano intanto ti ringraziamo veramente di cuore farlo per tanto tempo per anni secondo me il fatto che siamo in due che questa è la nostra famiglia è un po' come dire io mia moglie la mia compagna vivo che ne so a Coridonia però perdo il lavoro voglio cambiare città voglio andare a vivere in Grecia è un po' quello che abbiamo fatto noi con la differenza che ci siamo inventati questo lavoro che non è inventato non si inventa nulla abbiamo trovato questo lavoro che si può fare in qualsiasi parte del mondo cerchiamo di farlo nella maniera migliore perché secondo noi dietro c'è tanta potenzialità ma soprattutto condividere cose in maniera seria perché viviamo sensazioni che spesso e volentieri rispetto a quello che pensavamo che ci è stato detto sono molto diverse quindi tante volte penso mio padre che ha 82 anni che magari ci guarda penso che viverlo in prima persona è raccontarlo in maniera seria senza il fatto che che ne so un telegiornale dietro abbia dei ritorni quindi certe cose non le può dire oppure che ne so un politico deve fare attenzione a dire altre cose noi ragazzi lo facciamo in maniera seria quello che vi raccontiamo quello che ci chiedete è la nostra vita è la nostra quotidianità tante volte se ci fate caso è differente rispetto a quello che ci è stato detto questa cosa è molto interessante poter andare avanti non sappiamo per quanto tempo perché questo mezzo ragazzi è complicato Dallas grazie infinitamente Franchi Svizzeri grazie grazie quindi ci segui dalla Svizzera ci ricordiamo però ragazzi ripeto è complicato da un lato è bellissimo all'altro e per finire per chiudere la domanda sì abbiamo strappato le nostre radici da Corridonia però è anche vero che noi siamo la vita nostra è insieme farlo penso che non sia così complicato se si ha voglia di provare poi ripeto vedremo cosa stava facendo non voglio dire nulla c'è anche una maturazione averlo fatto dieci anni fa sarebbe stato per me molto più difficile magari ero molto più legata alle abitudini anche ai piccoli sfarsi quotidiani alle feste che magari dovevo essere in famiglia o mi piaceva essere in famiglia tutto tutto se deve maturare matura con calma e matura con la persona con cui si vuole si vuole affrontare per noi noi l'abbiamo vissuto così quello che è sicuro che magari da fuori voi vedete il video non è tutto bellissimo non è la vita più bella del mondo per me per poterla fare questa vita c'è bisogno di un ingrediente fondamentale che è la curiosità di conoscere e soprattutto il fatto di non avere paura di andare appunto a conoscere a sviscerare questa curiosità per il resto ragazzi ci sono tanti contro che vengono ovviamente colmati da tanti pro però non è la vita più bella del mondo no vabbè questo pro ognuno di noi ha i propri sogni ha il proprio la propria idea di stile di vita perfetta io penso che la risposta è sempre quella se non lo fa quasi nessuno è perché dietro ci sono tanti motivi per non farlo tanti contro tanti contro per non farlo però detto questo salutiamo Bruno Giacomini grande Francesco e Sara Bruno ci saluta e salutiamo salutiamo se avete bisogno di una autocarrozzeria ragazzi facciamo la pubblicità perché se lo meritano veramente sono bravissimi beh anche al loro club però il club di Morroval e salutiamo anche Ducati 66 saluto d'Este Sevilla onorati di averti con noi magari ci vediamo quest'estate magari la Spagna è sempre una buona idea dalla scrive ciao ragazzi ciao ragazzi purtroppo sono arrivato solo l'ora ero fuori per un impegno ascolto con interesse e guardo con calma grazie Giovanni Guerra intanto grazie infinitamente grazie di cuore una volta una persona anziana mi disse per diventare una persona saggia bisogna conoscere e viaggiare tanto e io credo che siete sulla buona strada speriamo gli spienzi sono pillole di saggezza Salvatore per me è importantissimo viaggiare però non lo do come soluzione per diventare saggi perché ripeto abbiamo conosciuto anche dei viaggiatori che non sono viaggiatori perché vanno molto più veloci tante volte io ve lo dico con la massima ma non solo da quando abbiamo questa esperienza anche prima io ho una cosa che per esempio ve lo dico con la massima trasparenza tante volte soprattutto nell'ambito motociclistico vedo che più che conoscere un luogo l'importante è mettere la bandierina questo è un pensiero mio personale che io ragazzi non fa parte secondo me del viaggio non vogliamo etichettare mai no è un mio punto di vista no no non vogliamo etichettare nel senso ti do ragione nel senso che qualche volta si pensa che siccome uno è un grande viaggiatore la pensa in grande insomma è aperto di mente non è sempre così è come dire gli italiani sono dei grandi poeti tutti oppure non so sono qualche volta purtroppo perché sarebbe bello pensarlo però sono dei luoghi comuni la differenza come sempre la fanno le persone anche secondo me anche chi ha viaggiato poco magari ha una mente aperta ragazzi qualche volta abbiamo conosciuto delle persone di generazioni precedenti che non si sono mosse dalle loro campagne eppure avevano una saggezza da vendere però al tempo stesso la stessa persona secondo me se viaggia di più secondo me è una lezione di vita e lo condivido al 100% è come fare più di fare all'università perché vivi vivi e vedi situazioni veramente che ti allargano un po' l'orizzonte Paolo Alfonsini Pavlito dice non sempre il sonno della ragione genera mostri a volte proprio grazie ad esso si aprono grazie ad esso si aprono nuovi orizzonti per il sottoscritto avete fatto un salto di vita e di qualità della stessa grazie Paolo ce l'ha detto tante volte noi lo condividiamo il tuo pensiero però al tempo stesso dobbiamo essere anche onesti che è complicato è complicato Paolo portare avanti il lavoro e tutto come abbiamo detto tante volte però però se lo facciamo è perché lo condividiamo il tuo pensiero lo condividiamo io sono sincero al 100% se questa vita è peggiore rispetto a quella che facevo prima tornerei a fare quella di prima quindi siamo onesti e cristallini perché qua non dobbiamo cioè non è tutto bello però al tempo stesso preferisco questa piuttosto che quella di prima assolutamente per lo meno per adesso poi Gojama che diceva un viaggetto a Versailles Sara si può fare verissimo sì ogni tanto bisogna con gli standard devo fare attenzione anche per Sara perché se scendiamo troppo poi la stanchezza le situazioni complicate ti portano un po' però so italiana ti porta fuori i giri allora Alessandro che la ciali vi mandiamo un saluto vero curiosità passione rupesto zonzolante grazie grazie infinitamente se non c'è amore fra di voi non se ne fa nulla Alessandro hai ragione no no questo è allora adesso non voglio farlo smianoso Alessandro lo sa è la cosa più importante se non vai d'accordo cioè se prima di fare questa scelta più che non vai d'accordo se non andate nella stessa direzione non ce la fai cioè di fondo per fare questa vita un altro elemento fondamentale è che tu devi aver voglia di passare del tempo con la persona che è accanto per noi il fatto che prima ci vedevamo poco questo salto abbandonare le radici è anche per stare più insieme e l'unica maniera per farlo era cambiare lavoro o ti inventi un lavoro che fai a casa e stai insieme oppure fai una prova del genere Roberto Fraticelli ci ha appena scritto Francesco dove sta? non cascomo una provoletta in non cascomino una provoletta in Argentina non hai mai mangiato mai una provoletta non approvo una provoletta in Argentina si l'abbiamo mangiata Roberto però dobbiamo rimangiarla di sera abbiamo mangiato il lama purtroppo ci dispiace per il lama proviamo a assaggiarlo quindi ovviamente anche la comida bisognerebbe fare un video dedicato anche alla cucina argentina cilena assolutamente ma qualcosina qualche pillole ogni tanto diamo le facciamo ci troviamo in un posto Roberto che ci sta ascoltando ci troviamo in un posto dove sono importantissime le omitas i tamales che tra l'altro sono una sorta si ispirano un po' alla nostra polenta poi i tamales sono ripieni di carne buonissimi io li sto mangiando sempre perché mi piace molto senza difficoltà non c'è soddisfazione dice Luca De Mattio De Mattio credo grandi grazie ragazzi grazie a te condivido al 100% Luca è proprio per me è un comandamento quello che hai scritto la vita più bella è quella che si fa senza avere rimpianti e voi siete sulla strada giusta verissimo qualsiasi strada nel senso che si può lavorare in una fabbrica in un'azienda nel campo si può viaggiare come stiamo provando a fare noi lavorando qualsiasi basta che basta che non pensi che insomma che sia una sbagliata comunque Simone ci dice io e mia moglie quest'estate andiamo in Islanda se vi mando i video me li montate siete ben va bene Simone scrivecelo è ironico chiaramente noi ti mandiamo la fattura vediamo poi se ti va bene questa no no un saluto però Sgasser fa una domanda una domanda seria su in alto le orecchie non vi danno fastidio Sgasser c'è il classico click che senti quando passi una certa altitudine però poi no non abbiamo sentito fastidio il male che ti dà hai dei crampi allo stomaco hai mal di testa hai inappetente non hai fame non hai voglia di far nulla poi chiaramente qualcosa è soggettivo questo è quando quello che abbiamo vissuto è quando sei passato da 3-400 metri a 4.000 quindi ci deve essere un salto enorme anche di 4.000 metri se andai se vai lentamente non hai nessun tipo di problema il problema è che devi andare devi fare tutto molto lentamente devi parlare lentamente devi camminare lentamente se bevi l'acqua ogni tanto ti fermi respiri non fai dei sorsi come fai se sei al mare a Civitanova Marche che bevi perché devi dissetarti devi bere con parsimonia riprendere fiato bere è strano per noi è strano comunque Alberto Carlini dormire nel salare portatevi il sacco a pelo a meno 28 Alberto Carlini hai ragione al 100% il problema è che noi il sacco a pelo non ce l'abbiamo per queste temperature ce l'abbiamo per temperature meno bassi il problema è che a maggio ci hanno detto che potrebbe arrivare anche a meno 15 meno 16 dipende ovviamente dalla stazione dipende dalla situazione per esempio adesso in questo momento dove ci troviamo noi ora a Tilcara in teoria dovrebbe essere asciutto molto secco invece ci hanno detto che quest'anno piove molto è molto umido e attualmente il salare per quanto siamo inizio di aprile c'è ancora 20 centimetri d'acqua non solo molto strana questa cosa non solo noi siamo a Tilcara che è siamo vicino al tropico del Capricorno però è una zona a metà tra deserto e una vegetazione che sussiste ancora però solitamente è una zona molto secca ieri abbiamo parlato con una signora e ci ha detto continua a piovere e c'è umidità è una cosa a cui noi non siamo preparati ed è verissimo perché i miei capelli si gonfiano come se stessimo a novembre a corridonia quindi c'è l'umidità di corridonia comunque Alberto abbiamo più o meno abbiamo il piumino sotto per quando andiamo in moto quindi l'idea è di aggiungere a sacco a pelo che abbiamo il completo proprio del piumino che abbiamo come avviamento tecnico sarà complicato magari quella notte dormiremo un'ora due ore però voglio sentire appunto il silenzio voglio vedere le stelle e voglio vivere questa mi piacerebbe vivere questa situazione e il problema è che si può fare solo quando il salare è asciutto lo sai meglio di noi cioè entrare in moto si può fare e se manca dormire non è che poi dormire sull'acqua però si può visitare anche con l'acqua forse il periodo migliore sarebbe farlo a dicembre però magari l'anno prossimo vediamo se ci dicono che è veramente complicato tanto l'idea è di tornare magari l'anno prossimo l'idea è di dedicare di dedicare tanto tempo alla Bolivia al Perù perché neanche un anno basta per visitare queste zone quindi magari lo faremo l'anno prossimo Rossi intanto ti mandiamo un bacio perché avete un coraggio una forza di volontà da vendere grazie mille ma no dai Rossi non è la normalità ci proviamo Roberto Fratticelli però ci tengo a dire una cosa la prossima provoletta la vogliamo mangiare con te quindi dacci appuntamento dove vuoi a Cordova nella tua il tuo villaggio cittadina natale perché chi lo sapesse Roberto Fratticelli ha una struttura in Uruguay a punta del diavolo è la struttura dove noi abbiamo pernottato i nostri primi giorni in cui ci siamo mossi in Sud America nel 2022 è una persona che stimiamo particolarmente che ha vissuto a Corridonia che ha vissuto anche a Corridonia ma che noi non conoscevamo prima di venire in Sud America la provoletta la vogliamo mangiare con te qui in Argentina però non in Uruguay Gio che dice era tutto già scritto è un lavoro cucito su misura per poi così Dai e io e Joker noi ce la mettiamo tutta veramente l'idea purtroppo l'algoritmo di Youtube anche facciamo le cose più fighe più belle del mondo secondo noi secondo noi ti fa crescere lentamente quindi speriamo di crescere un po' di più perché tanto tutto dipende anche da crescere Alejandro dice infatti a punta del diabolo è in disembre è in disembre arrivo quindi Roberto aspetta Alessandro che verrà da te a dicembre mi raccomando Alessandro vai da Roberto comunque ragazzi sei un'ora e 48 voi siete fuori di testa perché siete ancora a 550 che ore sono in Italia fateci sapere noi in questo momento siamo 5 ore indietro perché in Italia adesso sono le 10 e 49 sono le 10 e 49 Roberto ci ha risposto ha detto aspetto tranquillo perfetto sono le 22 e 49 noi adesso siamo 5 ore indietro rispetto all'Italia perché in Italia è subentrata l'ora legale l'Argentina non hanno l'ora legale cioè supportano solo l'ora solare e quindi ogni tanto si fa 4 ore o 5 ore nel periodo insomma dalla primavera fino all'autunno italiani comunque ragazzi per chiudere abbiamo fatto la diretta quando dovevamo affrontare questo percorso e è andato tutto quanto bene penso pensiamo di aver fatto un buon lavoro di aver portato sul canale anche dei contenuti interessanti comunque ci state rispondendo all'ora vi vediamo ancora collegati Marianna, Simona, Veronique Marco, Tommaso cioè ragazzi ci fa un enorme piacere però siete dei pazzi perché poi la gente ci critica e ci dice siete inascoltabili per due ore di tempo quindi Dallas io fino alle 5 domani mattina Dallas no non ti vogliamo far patire Paolo della cieca ciao Paolo come stai? ciao Paolo poi grazie mille per farci vedere il mondo stando con Alessandro Andrea noi ce la mettiamo tutta è un piacere enorme perché quello che vediamo noi spesso e potenti quando rimonto i video ora anche con la camera grandangolare è quello che vedo nei nostri occhi Vincenzo Vincenzo Muzzacchi tu riapri però la discussione quando tornerete a lavorare cioè adesso tu ti vuoi male perché noi ricominciamo a farti il discorso Vincenzo questo è il nostro lavoro attuale abbiamo aperto una partita IVA paghiamo le tasse paghiamo i contributi paghiamo tutto che poi in Italia non è sempre facile lo sapete siamo siamo degli imprenditori tra virgolette a tutti gli effetti e il nostro lavoro è creare video perché non lo darebbe scontato anche qua parlare di fronte a voi magari per qualcuno non è una banalità ma parlare un'ora e cinquanta insieme a voi ragazzi è un grande piacere è un grande piacere ma bisogna farlo però Roberto Vettraino dice come compito da domani ognuno di noi deve trovare un follower in più al giorno ve lo meritate Roberto grazie di cuore ottima idea Tonio Colonna sono quasi a Bari bella compagnia Tonio da dove sei partito da dove sei partito facci sapere da dove sei partito sei arrivato quasi a Bari ma da dove perché noi lo sappiamo i tuoi viaggi quali sono siete voi che dovete lasciare noi lo molliamo Maurizio Fei sempre gentilissimo Giuseppe Pascotto voi siete decisamente suonati Giuseppe siamo pescemi è verissimo abbiamo stamattina abbiamo letto il messaggio di un ragazzo italiano che ha il padre argentino e il padre argentino gli diceva guardando i nostri video Estan Locos ed è vero un argentino ce l'ha detto ce lo prendiamo perché ce lo dicono tanti argentini Fabio Poccato dice sono un musicista dovrei portarmi tutta la mia strumentazione ma un bel concerto in cui posti spettuti sarebbe bellissimo grazie ragazzi mamma mia Fabio sicuramente sarebbe bellissimo sicuramente sarebbe non so l'acustica quando è tutto aperto quello a cui a cui sarebbe però sarebbe bellissimo veramente pensaci perché noi l'anno prossimo saremo di nuovo in queste zone e se sarebbe una cosa bellissima è un po' come pensare i concerti nel teatro di Tormina questi luoghi lo meritano loro non hanno una grande predisposizione a pubblicizzarli in realtà in mano a qualcun altro sarebbero però pensaci e facci sapere Fabio ci abbiamo pensato anche noi anche magari noi li abbiamo pubblicizzati li hanno visti 20.000 persone 30.000 persone e magari qualcuno vorrebbe anche venire il problema è che per venire l'avete visto quando sono isolati le strutture non ci sono quindi devi fare non una vacanza devi fare un viaggio abbastanza hard se vuoi vedere questi posti ti devi un po' organizzare da solo perché ragazzi pochissime penso a le agenzie ti potranno portare su questi posti perché appunto non non sono posti pensati per il turismo perché non ci sono strutture non ci sono infrastrutture non ci sono infrastrutture diciamo che lo Stato non ha costruito grandi strade la Sabri prima non abbiamo mai la Sabri sono sempre le nostre stupendi top però Maurizio Alfei fa quasi una quasi una minaccia no sto scherzando siete voi che dovete lasciare noi non molliamo è una dimostrazione di forza Maurizio mi hai vista anch'io sono un po' così quindi possiamo resistere tantissimo allora andiamo avanti sono un commercialista e volevo proprio sapere come avete risolto i problemi fiscali Saudo Maestri allora a Sabri abbiamo aperto una partita IVA a regime forfettario perché sai benissimo che è la situazione migliore sotto questo punto di vista per cinque anni hai un'aliquota agevolata e per adesso per adesso perché sai benissimo quanto sono le spese ne abbiamo aperto una sola a mio nome e paghiamo i contributi proprio vi stiamo dicendo proprio i dettagli della nostra vita paghiamo i contributi per una persona proprio tappeti perché ovviamente entrambi abbiamo più di vent'anni di contribuzione da lavoro da dipendente e sapete benissimo che la contribuzione minima è 4.200 euro all'anno se non superi un tot e poi da lì ovviamente aumenta e nel caso di Sara per la tra virgolette la sua pensione perché siamo delle persone sceme cerchiamo anche di essere abbastanza previdenti per Sara mettiamo da parte circa 300 euro al mese come accantonamento se tu hai dei consigli puoi scriverci privato perché noi siamo sempre aperti a consigli e a parlare della nostra situazione l'idea comunque quello che abbiamo è che con questo lavoro si possono fare delle collaborazioni con delle aziende l'importante è trovare aziende serie e quindi fatturare alle aziende che ci danno un supporto e il problema è che se lo vuoi fare in maniera seria devi fare una scrematura importante e poi rimane poco però noi puntiamo a cercare di magari aprire una doppia partita eva oppure che lei diventi la mia dipendente come al solito più che zerbino Rebecca Serena dice Silvano vi abbraccio a tutti perché è complicato un abbraccio è complicato veramente però Valeriano Valeri dice ecco dai chiudete che i cardiopatici devono andare a letto Valeriano Valeri ha scritto questa cosa perché intanto lo abbracciamo l'ha pubblicato lui quindi lo possiamo dire Valeriano lo possiamo dire e dai l'ha pubblicato è stato un momento a livello salutante complicato Valeriano però è stata un'avvisaglia niente di grave non ci sono postumi però ho avuto un piccolo problema stava per avere un piccolo infarto ma non gli è successo nulla è pronto per ripartire noi lo aspettiamo qua abbraccio a tutti assolutamente perché l'infarto non c'è stato per il proprio però c'è stato un abbraccio Tizpir che io so che è Tiziano Piron dice il vostro lavoro è classificato usurante che quindi è andato in pensione un po' prima magari Tiziano noi paghiamo i contributi come se fosse un'attività un negozio sapete come funziona in Italia ragazzi però non è che ce lo dobbiamo stare a dire più di tanto l'Argentina non è non è poi tutto questo meglio però ragazzi tra 20 giorni Alessandro grazie stavo scoprendo i messaggi vi scrivo vi seguo da ovunque la vostra popolazione è diventata mondiale Alessandro tu sei di passe sei troppo buono come sempre è stato un piacere conoscerti non vediamo l'ora di rivederti però sì diverse persone scrivono considerate anche un'altra cosa che questo lavoro se noi fossimo stati inglesi avessimo parlato in inglese ovviamente avrebbe un po' preso tutto il mondo idem per gli spagnoli infatti i due grandi youtuber i cibuzzi e Charlie Sine uno è spagnolo e l'altro è ulandese parlare in italiano per noi è un freno enorme però è anche vero che fare video in inglese sarebbe complicato perché non abbiamo quella padronanza ma no ma poi vuoi mettere inglesi non gesticolano ma poi siamo italiani l'italiano penso che preferisce guardare un video italiano quindi andiamo avanti per la nostra strada appunto si parla italiano perché noi siamo madrelingue italiani potevamo essere più fortunati se avessimo parlato perfettamente l'inglese ma noi siamo italiani si parla italiano si cerca di imparare le altre lingue che sono estremamente importanti prima e fra tutti lo spagnolo l'inglese ci sarebbe da imparare anche il cinese però vabbè in un'altra vita avete visto infatti cosa è successo in Italia per i vari influenze complimenti per la correttezza Saudo io che dirti io credo Saudo credo adesso senza entrare nel merito sappiamo quello che sta accadendo io credo che sia al di là della scorrettezza di ognuno correttezza o scorrettezza di ognuno credo che sia un mondo in parte seppur piccola parte un po' da regolamentare un po' bisogna imparare a capire come muoversi però è anche vero che io penso che di fondo ci vorrebbe un po' di correttezza come sempre ragazzi poi le persone fanno la differenza allora io vi dico il mio punto di vista noi siamo contattati continuamente da diverse aziende perché magari l'azienda ti vuole mandare un prodotto parliamoci chiaro che ne so vi faccio un esempio un'azienda che produce un casco tu stai sempre online ti metti il casco e l'azienda come funziona ti dice io ti do il casco poi se diventi anche magari se raggiungi una certa popolarità magari ti posso dare anche un quid perché tu utilizzi il mio casco però al tempo stesso io come vedete faccio i video pipponi cioè tu parli del casco e bene o male ho capito che ne dici le cose belle e brutte però siamo onesti al 100% tendi un po' più verso a dire l'aspetto positivo più che l'aspetto negativo perché ovviamente ti ha dato il casco e ovviamente sei pagato qual è il mio punto di vista? io ragazzi ve lo dico per la massima tranquillità io cerco di semplificarmi la vita perché in primis sopra la moto ci stiamo noi seconda cosa se io il casco lo indosso male e non mi piace io preferisco se riesco me lo compro compro il casco che mi piace e poi ci faccio una recensione altro esempio sapete che utilizzo uno Shoei da sempre se domani mi chiama Shoei e mi dice guarda io ti do il Neotec 3 ragazzi io lo prenderei a chiusi a occhi chiusi ma perché è quello che avremmo scelto normalmente quello che avrei preso se mi ci pagano anche ben venga il problema qual è? il problema è che essere contattati dall'azienda che a te piace non sempre è facile anche perché parliamo di aziende top sapete benissimo che noi utilizziamo la roba della rucca sapete che faccio diversi video che parlo della rucca ragazzi io sono stato contattato da diverse aziende e ho preso il top cioè non è che ve lo dico per fare una signorina da rucca ragazzi se voi cercate una giacca o un completo che sia il top compratela a occhi chiusi non perché noi siamo ammazzati di quelle brand ma perché quelle brand è il top punto non ci sta alternativa solo che avere il top di tutto non è facile però io ci sto lavorando sotto questo punto di vista perlomeno cerco di fare delle collaborazioni cerco sempre di avere un codice sconto per dei prodotti che in primis testiamo ma che in primis io utilizzerei che avremmo scelto a priori se mi guardate sulla moto ho tutta roba di fascia alta perché per noi la moto è la vita ma no perché è la vita se io ho quelle valice che ho in moto perché le reputo delle valice ottime se mi contatta un altro brand che fa delle valice medie preferisco comprarle perché poi se mi trovo in giro e ho un problema poi sono io che me lo devo risolvere quel problema allora quando non trovo l'azienda che produce quello che mi piace ragazzi io me lo compro io sono fatto un po' così se poi quell'azienda che mi piace mi contatta la prendo e ci faccio il video perché so che quel prodotto è palido questa secondo me è l'unica maniera per rimanere un po' nella correttezza purtroppo il dio denaro comanda capisco benissimo gli influencer perché noi in primis vediamo quante spese abbiamo vediamo quanto significa pagare le tasse e tutto quando tu sei contattato soprattutto che sei gli inizi perché tante persone si mettono in questo in questo lavoro fa gola è normalissimo quindi tu siamo umani abbiamo tutti le stesse predisposizioni e lo capiamo benissimo però senza fare il saccente con i numeri che abbiamo noi la moto gratis ce la potremmo anche avere ma se ce l'ho di un brand che a me non mi piace e io la moto ragazzi non la prendo non mi frega nulla se invece un brand che dico che ha un modello di moto che a me piace che ci partirei allora benvenga diteci se voi ragionereste in una maniera differente noi arrivati a questa veneranda età marco grazie infinitamente grazie anche che sei in sella con no perché il discorso è anche semplice se tu fai un video pippone come faccio io e il video ti dico guarda acquistate quel prodotto perché è valido poi ragazzi lo acquistate cioè la mia reputazione quando ci mette andare a quel paese no ma non glielo dite ci tiene particolarmente ragazzi non succederà mai perché ci tiene nella vita figuriamoci altra cosa altra cosa e poi voi potete dirmi quello che volete io se ci fate caso potrei fare mille video di tanti prodotti se il prodotto è a metà io il video non lo faccio lo sapete perché non lo faccio perché bene o male il mio punto di vista vi influenzerebbe però dietro a quel prodotto ci sono persone che lavorano non posso condizionare delle persone che lavorano per il mio punto di vista perché magari voi lo acquistate avrete un altro punto di vista e quindi non è neanche giusto quello che porto sono prodotti che a me piacciono e di cui sono sicuro i prodotti che sono a metà ragazzi non li faccio non li faccio proprio io allora uno potrebbe dire allora Francesco fai solo quello che non è giusto perché tu non fai un video dove parli male delle cose non mi piace fare questi video qua perché comunque sia sarebbe il mio giudizio e poi mettere in mezzo delle persone che lavorano è giusto sbagliato per noi è giusto è il mio modo di ragionare uno potrebbe dire non lo condivido il tuo modo di ragionare perché tu ovviamente allora mi fai vedere solo roba che costa tanto ragazzi è il mio modo di fare e ognuno ovviamente deve rispettare l'altro allora volevo rispondere a Alessandro e a qualcun altro che c'è ah Nico Claus che ci dice avete pensato ai sottotitoli sia Alessandro che Nico Claus ci sono i sottotitoli noi li mettiamo su tutti i video in sette lingue diverse per cui chiunque ci sono ve lo dico perché li faccio io quindi ci sono preparata c'è inglese francese tedesco spagnolo portoghese russo e turco però quindi se avete bisogno di un'altra lingua fatecelo sapere perché però anche qua ragazzi l'algoritmo io sono un po' tecnico Dario ci sono i sottotitoli in inglese cercateli perché ci sono su tutti i video il problema penso che interessa a Dario era un consiglio che ci davano per allargare un po' il problema è che l'algoritmo di Youtube un po' inizio a capirlo anche quando uno fa un titolo un po' più forte tra virgolette o mettono immagini un po' più particolari però i ragazzi le sto facendo tutte le prove l'algoritmo di Youtube anche se ci sta ascoltando ora non ce ne frega nulla è un po' bastardo tra virgolette perché da quel che ho capito è un po' come ti deve far crescere piano piano tu puoi fare il video più bello per lo meno per la nostra esperienza sì ma penso di essere convinto di quello che dico tu puoi fare il video più bello del mondo ma tanto se poi non lo mandano non lo consigliano è l'algoritmo che decide tutto comunque Roberto Vettraino diceva vogliamo l'uovo di Pasqua Franks Affair con dentro accessori per la moto altro che l'uovo di qualche influencer adesso vedremo Colomba no ragazzi no meglio di no non di questi tempi no però voglio dire una cosa però adesso voglio dire una cosa non so se la condividere tra l'altro Mario dice voglio il vostro accento marchigiano no Mario noi fatichiamo una vita a toglierci a proposito di quel discorso devo dire una cosa perché sapete che quando mi fisso non devo dire quella cosa anche sul discorso degli influencer porca miseria ragazzi io non capisco perché devono essere seguite certe persone che non producono contenuti io capisco un video c'è un lavoro dietro cioè ma una foto su Instagram porca di quella vabbè non piace a te ma non è che sia ma tu che mi dai vabbè andiamo avanti io che imparo da te vabbè allora poi poi per questo ti sei sposato Sara perché è il top ti l'ha scritto Salvatore Sposito si è drogato ha preso troppe foglie di coca anche lui ha scritto Salvatore Sara come faccio a convincere mia moglie che farsi 700 km al giorno in moto come passeggero è divertente allora Luca allora divertente non è non è perché siamo seri no perché significa che fai molta strada a scorrimento veloce quindi è divertente a metà però è anche no per te è divertente però Luca per chi non ha la passione della moto come probabilmente tua moglie e come me vabbè tu un po' di passione ce l'hai per la mozza diciamo che la vediamo in un'altra ottica non convincerci non ci convincerai mai però devi aggiungere qualcos'altro cioè devi aggiungere a quello che fai qualcosa che piace anche a lei dirlo allora no nel senso io porterei un mio gusto però bisogna vedere la moglie di Luca alla moglie di Luca cosa piace fare per esempio tu dici facciamo 700 km e ti ti disegni il il percorso che vuoi fare il ricorrido che vuoi fare direbbero gli argentini però poi ci metti la ciliegina sulla torta cioè quello che lei piacerebbe fare che ne so vorrebbe andare a bere il caffè da qualche parte mi è venuta proprio una frase infelice il caffè da qualche parte no che ne so vorrebbe andare in un negozio che sogna da tempo vuole andare a vedere la reggia di Versailles o la reggia di Caserta che è anche più bella metti la ciliegina per lei prova prova allora Nox dice quanto ti dovrebbero pagare per la tenerona allora secondo me è tanto però il discorso qual è? che io quello che dico alla fine è quello che penso perché la moto mi piace tantissimo resistevo tantissimo quindi i complimenti vanno a Yamaha però ovviamente per Yamaha è una vetrina enorme io sono convinto che bene o male ho influenzato qualcuno a comprare la moto e se questa cosa magari l'avessimo fatta 6-7 anni fa quando la moto partava in produzione avrei influenzato perché ragazzi questa è la verità non è una cavolata ma non male tu quando fai un video se sei una persona seria fai vedere quello che la moto riesce a fare cioè sei serio dice la verità no come magari che ne so vi dico la moto non ho avuto mai un problema e poi ogni tanto la porto in officina non ve lo dico cioè se sei serio ma non male tu condizioni la gente e secondo me per la Yamaha è una visibilità enorme solo che qua ragazzi bisogna tornare in un discorso dove io ho iniziato a capirlo per diventare ambassato di un marchio devi avere delle conoscenze devi portare un progetto e devi diventare tra virgolette un piccolo dipendente noi siamo un po' dei disgraziati ragazzi perché i progetti non li presentiamo a nessuno perché sono nostri nulla di tutto ciò perché ci piace un po' la libertà però al tempo stesso però ne paghiamo qualche conseguenza faccio un esempio due anni fa ti do la tenerona per fare questo viaggio al tempo stesso l'azienda e mi è capitato diverse aziende che me l'hanno detto tu sei libero di dire quello che vuoi pochissime pochissime io già quando trovo un'azienda che mi dice questa cosa sapete che significa che l'azienda è talmente convinta del prodotto che ti dà che bene o male sta tranquilla che tu poi ne parleresti bene questa moto non è che ne parlo bene per merito mio ne parlo bene per merito dei progettisti Yamaha che l'hanno fatta affidabile punto come parlo bene del GS che è una grande moto non è solo moda quella moto è una grande moto quella moto penso che sia abbastanza evidente poi c'è qualche nozione tecnica che io non posso dare però Francesco dà e che è in base alla sua esperienza al suo punto di vista Domenico dice una cosa verissima l'ho provata in negozio bella vestibilità sta parlando di Rucca e comodità ma poi non l'ho comprata per via del mutuo da aprire come darti torto come darti torto però torniamo al solito discorso anche un GS costa tanto anche un Ferrari costa tanto e purtroppo condivido che tutti mi possono dire guarda che per l'utilizzo che ne faccio della moto per me un completo che costa 500 euro basta e avanza e da parte mia vi dico che avete ragione ognuno deve fare quello che per cui in base alle proprie scelte e alle proprie possibilità ma non è tante volte non è dato dalle possibilità tante volte è dato dal fatto che io proprio per un completo non posso spendere 2000 euro e ci sono tutti i motivi del mondo punti di vista punti di vista e magari in banca ha anche un bel conto in banca che ne so io conosco persone che hanno il GS nuovo e hanno che ne so la punta a metano perché per loro la moto è fondamentale ed è sacrosante e pagano la moto a rate costantemente da 20 anni a questa parte da quando facevano il 1150 se tu ci parli dici a me la macchina non mi interessa nulla ma per la moto voglio avere quella moto là è sempre nuova è rispettabilissimo ognuno deve fare quello che vuoi però è anche vero che bisogna aprire un mutuo è prissimo Carlo Scacca Barozzi dice ciao ragazzi siamo una coppia di motociclisti da 40 anni vi seguiamo perché noi viaggiamo tantissimo e siete benvenuti a dormire e mangiare da noi se venite a Varese Carlo e Nicoletta un enorme piacere ecco vedi ragazzi l'influencer fa questo per noi è un mandaggio enorme davvero grazie un bacio a voi e un bacio a Varese ho la fisica scritta quando vedo un influencer invoco Kim Jong-u palito palito come direbbero qua stacco buonanotte a tutti ragazzi vi diamo la buonanotte perché è il mantra che recita Francesco a Sara tutte le sere Carlo scrive ciao ragazzi siamo una coppia di motociclisti da 40 anni vi seguiamo perché noi viaggiamo tantissimo e siete benvenuti a dormire sì 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 l'avevo già letto io concordo con il vostro ragionamento e questo della correttezza fa la differenza e vi fa onore grazie Alessandro ci teniamo particolarmente quindi ci fa un enorme piacere ma ci hai conosciuto lo sai quando sono bestia io quindi Fabio dice sei andato sotto mi sa dove sei andato Ale Castorino abbiamo letto ciao ragazzi mi hai influenzato quattro anni fa con caschi Shoei e io entrambi e sono felicissimo vedi vedi allora Ale Castorino ti ho influenzato con il casco perché è un casco che dopo il tuo video pippone ho comprato il paramotore allora Gaetano ecco io quello che mi interessa dopo il tuo video pippone ho comprato il paramotore Gaetano ti è piaciuto il prodotto quando l'ha preso in mano ti è piaciuto scrivelo qua perché la tua recensione per me è importante Gaetano non suonava come una minaccia la sua domanda cioè dicelo tranquillamente quello che pensi Gaetano per farti un esempio io quel paramotore là l'ho pagato come l'ha pagato tu senza risparmiare un euro all'azienda spesso in quel caso però spesso in quel caso mi capita magari possiamo avere un codice sconto e allora magari per chi guarda può usufruire del codice sconto ma io quel prodotto l'ho pagato tale qualità Marco dice mi dice sottotitoli non disponibili ma non su questa diretta credo tu stai parlando di qualche video scrivecelo scrivicelo perché mi facciamo costantemente domenico ho scritto una cosa importante appena preso il Neotec 3 che semplicemente il Neotec 3 è semplicemente spaziale domenico la nostra idea quando torniamo in Italia è di lasciare il Neotec 2 qua che è ormai a 4 o 5 anni e prendere il Neotec 3 e lasciarlo in Europa per me rapporto qualità prezzo un corno che costa tanto però a livello di casco modulare per il nostro cranio ma vi dico di più io i caschi ne ho consumati tanti le imbottiture di questi caschi noi li abbiamo lavati dopo questo libro qua dentro la lavatrice era la quarta quinta volta le clip tutto quello che volete ragazzi dopo 5 anni il casco è come nuovo per me quello che è importante è anche come viene progettato un prodotto che duri nel tempo perché se ti trovi anche come siamo noi hai un problema anche al casco perché si stacca l'imbottitura o l'imbottitura cede poi te lo devi tenere in testa tu per questo preferisco avere un prodotto che a me piace Pablito mi consiglia di aggiungere aramaico antico Alessandro metti il romano quello sarebbe il topo quello però io devo venire a scuola da voi da Alessandro e da Pablito e con grande piacere sicuramente non è disponibile per questa diretta ma se tu guardi i video pubblicati magari non l'ultimo perché ancora non l'ha fatto perché i sottotitoli si possono aggiungere dopo averli pubblicati no 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 c'è anche sull'ultimo si sta? ok però tante volte magari non li vedete perché anzi vi dirò ancora di più la funzione di youtube anzi fatecelo sapere se riscontrate qualche anomalia no per farvi capire quando mettiamo aggiungiamo questi sottotitoli che ho un lavoro a parte se una persona avere il video che ne so negli Stati Uniti il titolo in automatico youtube te lo converte dall'italiano all'inglese comunque Simona dice pure noi prese stesse valigie top sono contenta Simona contentissima Simona avevo il codice sconto non so se l'avevo utilizzato però vabbè speriamo di sì magari l'hai preso prima Luca raga sto provando a dirvelo da un'ora l'intelligenza artificiale potete modificare anche la voce e metterla in diverse lingue avrete molta più è vero visibilità però non dopo no con l'intelligenza artificiale si potrebbero fare tante cose e bisognerebbe seguirla questa cosa perché è tutto un po' in continua evoluzione ma ultimamente anche io ci sto un po' dietro stanno facendo dei passi da gigante e secondo me l'intelligenza artificiale stravolgerà anche questo lavoro di influenza però non so se perderemo un po' di originalità più che originalità autenticità 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 quindi non gli sto cioè non so ancora come affrontare questo discorso ma sicuramente stravolgerà il mondo dopo ragazzi quando mi vengono quelle frasi in marchigiano a voi a intelligenza artificiale cioè lì non c'è storia Sonia Basso dice ciao ragazzi ormai la decisione l'abbiamo presa presto si parte vi facciamo un grande in bocca al lupo dove sta Sonia Basso? eccola vi salutiamo un grande in bocca al lupo per la vostra esperienza Sonia Basso la decisione l'avete presa da un pezzo cioè non è che fate un cambiamento così quindi allora magari comunque dai loro partono adesso a luglio se non erro giugno a luglio Sonia partite a luglio quindi e magari ci si incrocia da qualche parte quindi se noi torneremo a dicembre o gennaio magari ci incrociamo mentre scendete vai fra stesso pensiero che se Sara ti ha fatto tacere per il buon vivere Matt lo sappiamo quello che possiamo pensare però diamoci un taglio perché poi insomma che sappiamo dai su anch'io ha messo le risate infatti perché non ti si può ascoltare certe volte anche io e mia moglie ha preso Neotec 3 fantastici siamo felicissimi costano un occhio della testa ma come tutti i caschi top costano tanto Gabriele Barbera dice anche in Piemontese addirittura poi ma ecco la regina poi ragazzi meglio un travenzino Mariana Rubino ha scritto meglio un travenzino da qualche parte il travenzino Mariana inizia a non mancarmi però però ti dico che l'altro giorno camminavamo su una panaderia oltre oltre alle sì oltre alle facturas le facturas sono le paste le paste sì le facturas sono le pasticcine c'erano anche degli ottimi travenzini quindi forse siamo in un posto dove possiamo mangiare di buone travenzini Mariana Marco Grassi dice Francesco sappi che ti odio dove sta? per colpa tua ho scoperto Wunderlich e Peak Design e mi sei costato un rene però amo i tuoi video Pippone e soprattutto Sara Marco non mi fare dire una parolaccia Peak Design ora qualcuno mi manderà Peak Design è un marchio che qualunque cosa acquisti è pensato da persone che hanno un briciolo di testa costano tanto però tu trovi un altro prodotto che è diciamo elegante di stile e funzionale rispetto a tanti plasonati che vengono pubblicizzati questo io con Peak Design non ho nessun tipo di collaborazione non ci guadagno nulla ho speso una vagonata di soldi perché sono appassionato di fotografia però ogni cosa che abbiamo acquistato anche questo devo fare un video per farvi vedere come abbiamo distribuito la nostra attrezzatura non è una borsa è un contenitore modulare della Peak Design che è veramente il top però ti capisco sono costato un rene e lo capisco Wunderlich fa tutta roba di lusso per la BMW Gabriele specifica il problema non sono gli influencer ma gli influenzati un po' Gabriele hai ragione nel senso che a volte ci sono sempre stati dei pazzi che saltano qualcosa degli altri che parlano in piazza per coinvolgere le masse ci sono sempre stati il problema sì sono loro però il problema è chi li segue con con questa assiduità come fossero degli dei ti do ragione basta fino a qui Claudio Mangioppi di Francesco e Sara far capire la qualità di quello che si produce è una cosa difficilissima soprattutto Claudio soprattutto perché spesso e volentieri quella cosa costa tanto quindi ovviamente c'è sempre un approccio un po' particolare quando la cosa costa tanto allora Piero Piero dice una cosa importante ed è in in cantiere Giovanni Guerra di Fraco i GS ne rimangono molti a piedi Giovanni Guerra che dirti io la conosco poco bisogna che la utilizzi un po' di più sicuramente ha più ha più un componente rispetto alla Tenerona e sicuramente questo viaggio qua non glielo avrei fatto fare però ti risponderò strada facendo è anche vero che bisogna guardare la legge dei grandi numeri di Tenerona ne sono state vendute 100 di GS ne sono state vendute 10.000 quindi se facciamo riferimento alla legge dei grandi numeri è normale che ci sono più problemi sul GS che vengano riscontrati più difetti però torno a dire torno a dire che per questo viaggio io in primis prenderei la Tenerona però il viaggio che abbiamo fatto nel sud Italia è andato benissimo con il GS ragazzi non scherziamo al fatto rimettiamo la parte che rimangono a piedi però bisogna dire che ha delle qualità per il 90% dei casi non è un confronto da fare con una moto presentata nel 2010 e una moto presentata nel 2020 con un prezzo totalmente differente quindi è impossibile paragonare questi due moto ma se mettiamo da parte tutto e mi chiedete guarda Francesco qual è meglio io devo essere onesto nel 90% dei casi è superiore il GS rispetto alla Tenerona Piero dice avete abbandonato i navigatori satellitari perché vi trovate meglio con lo smartphone potreste parlarne grazie e saluti c'è già nella mente l'ennesimo video che pone è una domanda lecitissima il discorso sai che è che alla fine mi sono reso conto di una cosa che con il telefono ho diverse app e per quello che serve a noi alla fine posso anche far meno del navigatore anche se il navigatore è specifico per navigare e per certe cose è imbattibile però al tempo stesso quello che riesco a fare per quello che mi serve ho visto che anche con il telefono vado abbastanza bene poi ne parleremo magari in maniera un po' più dettagliata vado abbastanza bene però se avete un navigatore va bene comunque salutiamo Motorbuy intanto salutiamo Michele e Alessia che ci salutano e ci mandano un abbraccio Motorbuy dove siete ora? siete a casa? va bene ce lo scriveranno ma intanto magari li seguirete poi qualcuno di voi Luca dice ciao Fra e Sara ma una buona festa di prosciutto crudo non ti manca? Luca guarda non mi fa parlare male perché mi fai questa domanda qui c'è il jamon serrano qui c'è il jamon serrano che è il prosciutto crudo spagnolo poi chiaramente la qualità può non essere la stessa il prosciutto crudo spagnolo qua lo paghi 6 euro a letto che viene dalla Spagna e viene sotto vuoto poi chiaramente non è sempre no il prosciutto invece crudo che fanno qua in Argentina soprattutto perché in Cile già fai fatica a trovarlo in Uruguay non lo trovi proprio il prosciutto crudo che fanno gli argentini è economico ma non è come il prosciutto quello che abbiamo noi assolutamente non lo possiamo paragonare è più buono quello italiano nettamente vabbè poi noi siamo di parte ragazzi siamo italiani siamo abituati al sapore italiano però c'è stai zitto però c'è c'è anche una componente oggettiva e cioè il prosciutto di Parma abbiamo incontrato non è Parma prosciutto il prosciutto crudo no no non voleva essere però è un esempio che facciamo qualcuno anche argentino che è stato in vacanza in Italia però quando ho assaggiato il prosciutto di Parma lo conoscono anche loro di Parma o comunque quelli che abbiamo assaggiato ce ne sono buonissimi anche nel sud insomma ragazzi ci manca non ce lo ricordate ci manca tanto allora Pietro Marino mi dice avete visto il link che vi ho mandato per gli indumenti in Nox l'ho visto l'ho valutato però secondo me sono indumenti che hanno un determinato utilizzo che non possiamo paragonare a già per esempio i domenzi che abbiamo noi però da valutare appunto per un determinato utilizzo allora ci stanno salutando in tanti perché giustamente insomma è tardi e cominciamo un po' a stancare ragazzi 2 ore e 24 tra 6 ore suona ragazzi sono rimasti parecchi a piedi si lo dice anche Pavlito ah fra mi ripeto un video pippone sul terzo occhio il drone domenico si è molto interessante perché ci sono delle cose da sapere e ne ho utilizzati due diversi ultimamente ne ho dovuto acquistare uno proprio per il Sud America perché una cosa una notizia che vi do in anteprima l'ho detta anche a qualcuno che mi serve perché magari è una cosa che interessa veramente a pochi noi utilizziamo prodotti DJI che sono secondo me il top per quanto riguarda i droni il mini che è il drone più piccolino sotto 250 grammi non vola sopra 4.000 metri magari non ve lo dice nessuno perché non andate a leggere le caratteristiche tecniche io di solito mi spulcio tutto e vi dico che ho dovuto cambiare il drone proprio perché ho preso un drone che vola fino a 6.000 metri perché gran parte delle nostre dronate le abbiamo fatte sopra 4.000 metri allora Pietro Mario Giumannini ci dice Sara non dire al gradatore stai zitto ti conosciamo come gentilissima non sono sempre super gentile a parte questo il nostro rapporto è un po' così lui mi chiede lui mi chiama maiale o maialino io qualche volta gli dico stare zitto ragazzi queste sono le nostre litigate tra virgolette Paolo Alfonsini comunque con i GS sono rimasti parecchi a piedi perché gliel'hanno solata anche purtroppo purtroppo è vero Simo e Sere ci salutano per la moto poi in realtà dipende come si trova una persona adoro i GS ma non riesco a trovarmi io purtroppo sono un guzzista nell'anima e certe comunità non mi ci trovo Matt che ti devo dire la Uzi è molto simile per certi aspetti al motore del GS però ovviamente il telelever è una condizione che io onestamente non è che mi faccia impazzire se dovessi scegliere forse su quella moto forse anche glielo toglierei anche però devo ammettere che come coppia come elasticità del motore come allungo come stabilità ragazzi è una grande moto però parliamo di Guzzi che non è una moto da due soldi la nuova Stelvio è una grandissima moto quindi stiamo paragonando due moto di altissimo livello per me andrebbero bene entrambe per dirti come la penso Giuliano Trezzi ci dice adottatemi Giuliano a Vincenzo quando tornerete in Italia torniamo se tutto va bene il 4 giugno per poi ripartire con l'altra moto e poi ve lo chiederemo anche dove preferite che andà dove voi magari preferite un luogo che vi piacerebbe vedere l'idea è di partire per la prima parte al nord Europa e poi scendere nella parte un po' più economica Nox ci dice come si chiama il perro del giorno in realtà non lo sappiamo però ti descriviamo una scena velocissimamente eravamo in un posticino a prendere un empanadas e c'era una piccola fontana e è arrivato un perro da lontano si è buttato nella fontana è stato fermo per una decina di secondi e è ripartito ha fatto il bagno ragazzi questo perro guardatelo però è durato pochissimo è come fare una vasca in un piscina c'è una fontana dietro c'è un ristorantino intorno questo perro ragazzi è arrivato è entrato dentro la fontana tutti lo guardavano fotografavano lui come niente fosse poi salzato ha fatto una vasca ed è ripartito lui è il perro da qualche giorno in assoluto proprio vi fanno innamorare Gabriele dice sopra diceva un pippone enogastronomico Gabriele sì giustissimo dobbiamo farlo perché abbiamo assaggiato il lama abbiamo assaggiato dei prodotti ieri abbiamo assaggiato degli gnocchi ovviamente noi mangiamo per il 70% barra 80 a casa e cucina a cuciniera però ovviamente quando tipo in questo caso noi siamo seduti sopra il letto siamo su una stanza di un ostello e ovviamente quando siamo in queste condizioni siamo fermi poco e andiamo a mangiare Joker ciao nei localini quindi dobbiamo fare un video li possiamo fare perché stiamo assaggiando un po' di tutto qua della cucina locale Manuel Mereu dice ciao ragazzi ho iniziato a seguirvi a luglio 2021 con i vostri video di Caponord e lì ho detto prima o poi compro una moto da viaggio dopo dorso duro 750 da 20 giorni possessore di Honda Cross Tourer 1200 ecco per esempio l'Honda Cross Tourer 1200 è una moto che io paragono un po' alla Super Tenerife ne sono vendute ne hanno vendute poche però è una moto che a livello di affidabilità e ha un motore pazzesco l'unica cosa di quella moto è che pesa tanto come la Tenerona e forse il baricentro è anche un po' alto Tommaso Castelli dice qui a Bergamo sono le 23 e 27 ci mandate a Nanna buttiamo un piatto di pasta quasi quasi la sella che montate ora Joker ciao grazie per il supporto la sella che montate ora è rifoderata o quella originale? la sella che montate ora l'ho rifatta rifare a un mio amico tappeziere di Corridonia ma vi anticipo una cosa che con l'esperienza che sto facendo e anche con l'esperienza che ho avuto delle selle Wunderlich su GS devo cambiare standard la sella deve essere dura cioè il discorso di mettere un foglio di memory di cambiare l'imboltitura le ho provate tutte e l'idea mia se la trovo prendo una sella che sia la Tourate che le Wunderlich le fanno molto simili l'idea è di riportarmela dall'Italia con una struttura unica dura versione alta che è simile a quella della Wunderlich ma la Tourate che dovrebbe farla che poi non è la Tourate che le produce che produce un altro brand sempre tedesco però l'ho rifatta ma nella lunga distanza non mi piace perché è troppo morbida per me la sella deve essere dura allora Franco Lella dice non avete mai fatto la 66 Route che ne pensate? l'abbiamo fatta abbiamo fatto un tratto però in macchina nel 2011 magari riusciremo speriamo a farla non ho l'idea di arrivarsi anche in moto ma con calma però nel nuovo mondo è chiaro che a noi è stata venduta la Route 66 che è mitica però nel nuovo mondo esiste anche la Route 40 che è la mitica dell'Argentina ma ne esistono tantissime in tutto il Sud America in Nord America si sa vendere molto di più rispetto anche all'Italia perché la Route 66 è tanto è un po' mitizzata però ovviamente è bellissima è affascinante da fare però ti trovi dei panorami che tante volte sono di un piattume enorme beh un po' come può capitare anche nella Ruta 40 però nella parte sud sì nella parte sud assolutamente da fare assolutamente da fare strade mitiche però la 66 da fare quello sì fra il GS 2003 nuovo è bellissimo i gestisti idealisti sono incazzati ma per noi i motociclisti si è visto diventato una moto vero troppo elettronica ma qui c'è da fare un pippone bisogna provarla bisogna averla c'è da fare un pippone quando hai l'esperienza e quindi la presa un mio amico quando torneremo sicuramente nel periodo breve che resteremo a casa penso 10-15 giorni perché devo fare diversi video pipponi li farò a casa anche sicuramente la voglio provare e poi vediamo Matt Danna intanto la pendola con l'acqua l'ha già messa su però a parte questo Stefano Zavatta fa una domanda ma con la vostra esperienza una moto con catena sarebbe stata all'altezza del cardano? allora la moto con catena dal mio punto di vista è più sicura del cardano perché? perché dovunque vai anche nei posti più sperduti una soluzione la trovi con la catena magari non troverai la tua catena giusta magari la catena devi ingrassarla a una manutenzione tutto quello che volete però se hai un buon un buon cardano affidabile ti toglie dalle scatole tanta manutenzione la moto è più pulita però torno a dire che la vera moto overland forse è più sicura con la catena rispetto al cardano perché se ho un problema al cardano faccio fatica a sistemarlo in certi posti l'italiano la francese quindi di Bordeaux ci dicono ragazzi ma per il vostro viaggione ci vuole una preparazione fisica perfetta oppure ormai un'abitudine quotidiana vi aspettiamo a Bordeaux allora noi non abbiamo fatto preparazioni fisiche noi siamo due sportivi in estensione io prima andavo molto in bici camminiamo molto anche dicembre all'anno in bicicletta camminiamo molto anche quando siamo a casa camminiamo tutti i giorni anche qua camminiamo camminiamo tanto anche qua facciamo non siamo tipi da palestra però facciamo esercizi ogni qualvolta lo possiamo fare a parte nelle altitudini che è diventato difficile quindi abbiamo faticato molto però questo che facciamo è semplicemente per un benessere fisico nostro personale non è per una preparazione ti dico una cosa in anteprima che ho il cervello che ultimamente pensa che può fare tutto il mio fisico però vedo che come passa il tempo il fisico resiste meno del cervello quindi non so se dipende dall'età se dipende dal fatto che non facciamo più sport non lo so però il cervello è più folle del fisico devo fare attenzione perché mi potrei trovare in condizioni che il fisico non risponde più e il cervello vorrebbe andare avanti e l'età va avanti ragazzi è normale la barba si è imbiancata comunque iniziamo a dire corta o lunga la pasta c'è un dibattito noi pastaioli ragazzi Paolo Fizzini che hai scritto? se ne va allora ragazzi buonanotte a tutta la chat ringrazio Sara ragazzi andiamo a dormire anche noi ragazzi Pavlito ha ragione no perché giustamente si parla di pasta bisogna buttarla giù 7-8 minuti e si mangia 12 minuti se è insomma buono anche il grano però ragazzi avete ragione dobbiamo chiudere ci vuole il fisico dell'omone Rebecca una cosa che è oggettiva Rebecca Serena non è che lo dico sicuramente quella strada che abbiamo fatto in un modo così carica Gabriele ha stappato intanto la bottiglia ci ha vantaggiato il fatto della mia fisicità nel senso l'altezza aiuta tantissimo se fossi stato 10 centimini più basso secondo me era impossibile ma vi dico anche il perché non è fare un limite non è un discorso di saper guidare più o meno la moto il discorso è che se tu in moto arrivi a terra in maniera un po' più precaria quando guidi una moto così pesante che prendi il ripio prendi la sabbia la moto davanti ti si chiude e tu devi appoggiare il piede per terra se riesci ad arrivare prima con il piede piantato magari magari dico riesci a tenerla se la moto si inclina di due gradi in più pesa talmente tanto che ti spezza una gamba quindi l'altezza sicuramente aiuta allora facciamo così perché domenico si farebbe domenico si farebbe due orecchiette con le cime di rapa qui ci vorrebbe ci vorrebbe Anna e Tonio con il bianco a mura una diretta con la pasta infatti prendevo proprio idea da Tommaso Castelli che dice una diretta con la pasta non sarebbe male allora c'è questo questa differenza di di fuso orario promettiamo che la prossima diretta che facciamo la facciamo in una casina in cui possiamo mettere sulla pasta e vedrete che mettiamo sulla pasta siete convinti di quello che facciamo comunque ho detto anche di Taralli i Taralli sono il numero uno ci fate ci fate veramente star male Michele e Cristina vi abbracciamo Pietro dice ha già messo un mese a bilanciare l'altitudine del 2006 che poi il 2006 Pietro è pochissimo noi qui siamo siamo a 2005 e ti dico che per noi è pianura rispetto ai 4000 non ci è paragonabile cioè una volta che abbiamo provato purtroppo per fortuna ancora non lo sappiamo i 4000 e 3 la testa ti dice vai il fisico quando vai siamo nel stesso livello buonanotte è stato un piacere ascoltare Michela grazie ancora ragazzi vi dobbiamo salutare ci prenderemo tanti insulti però rimane la promessa della pasta Gio la sapi anche io te lo dico Gio anche tu però non fai tanto il granasso allora non potete dire di aver vissuto se non mangiate il panettone fuori stagione da Milano vi adoro Fabio quando torniamo giugno luglio la fettina di panettone non ce la toglie nessuno prima la pasta poi il panettone ah ci salutava anche Cichitino in moto l'ho visto sopra ci salutava ci segue dalla Spagna quindi l'Oxige Charlie Cinema è un Mario 70 sì Charlie Cinema guida una moto che totale pesa 280 kg e la nostra casa si pesa 520 kg il peso è fondamentale non è un discorso io lo ripeto all'infinito se vai con 100 kg in meno ti puoi permettere di fare mille cose in più altrimenti fai più fatica e comunque Fabio Boccato dice ve la porto a Corridonia anche perché sopra ci diceva vengo giù ci mettiamo d'accordo ci facciamo un piccolo concerto a Corridonia ci mettiamo d'accordo e ci porta il panettone di Milano ecco ragazzi Roberto Petrano ti penso che già te l'ho detto da parte di noi dai un bacio sulla guancia a Sara grazie Roberto grazie Enrica ciao Lucy Luci Veneziano Tino Tino 2 ore 37 noi ragazzi non abbiamo chiuso prima adesso a noi chi ce la fa la pasta no perché alla fine all'inizio eravamo 630 sì siete rimasti in tantissimi ragazzi quindi non abbiamo chiuso per quello Saudo Maestri se hai dei consigli commercialista scrivici perché noi siamo sempre esatto abbiamo bisogno sì assolutamente grazie a voi per esserci Marco Selva dice grazie per la compagnia grazie a voi di esserci di averci ascoltato di aver sorriso con noi comunque vi anticipiamo che i video diciamo più accattivanti ci saranno dei posti che stiamo studiando abbiamo trovato un paio di perle veramente nascoste uno spoiler e abbiamo trovato un posto che è stato scoperto nel 2015 esattamente non ci crederete perché neanche noi ci credevamo da un esploratore e ci si può arrivare in moto si trova in Cile è bellissimo e l'idea è di andarci oltre a diversi posticini che potrebbero essere molto interessanti quindi ancora qualcosa su questa stazione di interessante penso che ma come ancora qualcosa abbiamo un sacco di tempo abbiamo un sacco di perle da portarvi però siccome abbiamo visto delle cose estremamente recenti che tantissime persone anche del luogo non conoscono perché ci scrivono degli argentini tipo Antofage ci hanno detto ma dov'è questa laguna che noi non ne sappiamo l'esistenza quindi abbiamo altre piccole perle stiamo su un range un po' alto ciao Reggio Emilia vive il marchigiano e Mario insomma Giuseppe Paris dice non ci crede nessuno non so a cosa si riferisce però non lo so magari scrivici la disposizione del peso è fondamentale Dallas verissimo notte ragazzi ragazzi notte a tutti Alessandro Datti l'ho rinunciato ad un paio dipinte al munso per seguirvi Alessandro vattela a fare adesso no 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 questa sera hai fatto del bene a te stesso mettele in questa maniera no no te ne fai due grazie in onore nostro grazie il supporto Alessandro come senti ragazzi ci rivediamo a giugno sicuramente ci vediamo un attimo noi ci rivediamo chiaramente prima ciao ragazzi ciao a tutti ragazzi veramente ci hanno presi per fazzi qua perché stiamo urlando sì infatti sento un po' di rumori ragazzi buonanotte buon piatto di pasta a tutti a Tommaso in particolare a Bion motorista in viaggio di Bion buonanotte ragazzi ciao a tutti un grande abbraccio grazie di esserci